Allora cominciamo. Buonasera, grazie di essere venuti. La conferenza di questa sera rappresenta il culmine di una ricerca che Giacomo Prati ha iniziato nel 2010, iniziando ad approfondire alcune opere d'arte attraverso i simboli, i saperi antichi e l'alchimia. Il 27 maggio 2011, quindi due anni fa, Giacomo ci ha parlato della sua nuova analisi del Cenacolo. L'11 aprile di quest'anno, poco più di un mese fa, ci ha illustrato una nuova lettura della Primaverdi Botticelli, oltre a dimostrarci tracce di un intervento diretto di Leonardo su un dipinto presente nella nostra chiesa di Santa Maria di Canale di Tortona. Oggi, 30 maggio 2013, Giacomo Prati ci racconterà gli esiti della sua nuova ricerca sul dipinto che viene definito il dipinto più enigmatico del mondo, La Tempesta di Giorgione. Precisamente il titolo della conferenza di questa sera è La Tempesta di Giorgione, ovvero il dramma di una donna fra Venezia, Roma e i Turchi. Ricordo che, fra l'altro, da pochi giorni è stata pubblicata dalla casa editrice Il Cerchio di Rimini una nuova traduzione dell'Apocalisse di Giovanni e del Cantico dei Cantici di Salomone, realizzata da Giacomo, che, fra l'altro, poi ci dirà se ci sono dei rapporti tra queste sue traduzioni e la sua ricerca sull'arte. Quindi gli faccio i miei personali complimenti per questo apporto alla cultura tortonese che da anni il nostro carissimo amico Giacomo sta dando. Ringrazio la fondazione CRT che ci dà la disponibilità di questa sala. Ricordo che questi incontri sono videoregistrati e di questo ringraziamo ancora la CRT. Ringrazio tutti voi che siete venuti e vi auguro una buona serata. A questo punto lascio la parola all'avvocato Giacomo Maria Prati che vogliamo incitare con un applauso. Io a mia volta ringrazio Paolo che da anni è in modo compassione. Ringrazio voi che siete così numerosi per un tema molto particolare che di solito appassiona solo gli addetti di lavoro o un po' i patiti di certi aspetti. Certamente è un quadro molto affascinante, enigmatico e cercherò di spiegare perché è così enigmatico ma anche se già si capisce. E faccio una premessa, faccio una premessa, sono un po' emozionato perché ogni volta è un'emozione diversa perché già affrontare il Cenaco, la prima di Botticelli, insomma non è stato uno scherzo. Ci ho messo infatti qualche anno, è un percorso di tre anni che pressa poco ha partorito poi una conferenza all'anno. Anche se poi quest'anno ne abbiamo fatte due. Vi dico velocemente da dove sono partito e perché poi sono arrivato alla tempesta di Giorgioni. Perché secondo me è importante, a di là degli esiti di quello che vi dirò, perché entreremo proprio nel profondo di questa immagine e diremo cose nuove, che è già abbastanza faticoso, difficile. Però è ancora più importante secondo me vedere il punto di partenza, quello che di solito i grandi studiosi specializzati del settore saltano. Perché il rischio del grande studioso proprio perché è super specializzato e di solito sugli aspetti tecnici dell'arte antica il rischio del grande studioso è insito proprio nella sua cultura. Cioè più hai cultura in certi capolavori con un linguaggio difficile come questi, più rischi di cadere paradossalmente. Se ne hai meno, hai meno sovrastrutture mentali e forse, come nel mio caso penso di esserci riuscito, riesci a vedere in modo nuovo. Ovviamente devi avere tanta pazienza e starci tante ore sull'immagine e avere un minimo di metodo razionale di ragionamento. Io ho iniziato appunto nel 2010 e poi abbiamo fatto questa conferenza nel 2011 col Cenacolo semplicemente perché lavorando in soprintendenza a Milano, anche se sono un'amministrativa o una formazione giuridica, la soprintendenza a beni architettonici da cui dipende il Cenacolo ho avuto il privilegio e l'onore di poterlo vedere tantissime volte, anche alla sera quando fanno delle aperture straordinarie con poche persone. E quindi ho allenato molto l'occhio perché è uno degli insegnamenti che io stesso ricavo da queste mie esperienze che il vedere non è una cosa scontata. Il vedere innanzitutto è un allenamento anche muscolare, proprio fisico, nel senso che più guardiamo una cosa, ovviamente a chi ci piace, ci interessa, più scopriamo una ricchezza nuova certe volte, se non è un'immagine banale ovviamente, che prima non immaginavamo, che prima non sospettavamo. Quindi bisogna avere molta pazienza e rimparare il gusto del contemplare, cioè del guardare senza nessun scopo. Guardo perché mi piace e continuo a guardare. A un certo punto c'è un ritorno, come se l'immagine, questa è anche un'esperienza tipica della traduzione, l'immagine reagisse e iniziasse lei a parlarmi, perché io l'assorbo. Quindi è un discorso sia fisico ma anche mentale, perché se io invece voglio vedere un'immagine con uno scopo preciso, pratico o di potere o di conflitto o di mia vanità o perché voglio usare l'immagine per dimostrare qualcos'altro, per dimostrare quanto so di un alto campo, allora non sto interpretando, non sto neanche guardando, cioè sto guardando ma sto guardando già selezionando io quello che sto guardando. Noi siamo tutti interpreti, perché è così importante interpretare, soprattutto oggi in questo momento storico, nella nostra vita? Perché noi quando ci alziamo la mattina facciamo delle scelte, non ce ne accorgiamo ma selezioniamo delle immagini, facciamo delle scelte, interpretiamo in tutti i singoli atti, anche quelli apparentemente poco importanti della nostra vita. Ovviamente non sempre possiamo dedicare così tanta attenzione a certi aspetti, perché giustamente abbiamo delle necessità funzionali e pratiche. Però non è mai scontato, cioè noi siamo degli organismi vivi, fatti di una parte spirituale e materiale, quindi mentre viviamo, selezioniamo creativamente il nostro cervello, la nostra biochimica, è stata studiata dai psicologi, inutile diffondersi troppo su questo, ma anche la nostra anima non vede tutto, perché se noi dovessimo vedere tutto allora siamo fermi a fare yoga o contemplazione e anche lì non vedremo tutto comunque. Selezioniamo una parte, la rielaboriamo, si sedimenta nella nostra memoria e cresciamo con le immagini che vediamo. Oggi che siamo bombardati di immagini e siamo in una società sempre più complessa, sempre più apparentemente caotica e disordinata, sapere interpretare è un'avventura dello spirito sempre più bella, più necessaria e anche se apparentemente più difficile. Lo vediamo anche in televisione. Se notate, una parola che fino a pochi anni fa non si usava, tipo analisi, analista, profilo, quando è che si parla adesso di profilo? Profilo criminale, criminologo, nei polizieschi, profilo degli analisti finanziari, perché è così importante delineare un profilo ed essere analista? Perché, come vedete, aumentando la complessità e la velocità della società, sembra che perdiamo i punti di riferimento. Quindi la capacità di decifrare certi segnali, rielaborarli e trasformarli in racconto, in storia, in griglia che mi aiuta a leggere cosa sta succedendo, a prevederlo o a cavalcarlo, è sempre più importante in tutti i settori, culturale, economico, politico, psicologico. Queste immagini hanno una complessità incredibile, una ricchezza incredibile. Quindi io ho iniziato col Cenacolo di Leonardo e ho iniziato in modo diverso, perché non essendo uno storico dell'arte, ma avendo sviluppato negli anni, nelle mie esperienze, anche in certe cose casuali, una certa capacità interpretativa, mi sono dedicato con uno sguardo nuovo. Due minuti per dirvi perché ho sviluppato una certa capacità interpretativa. Perché, per differenza appunto dei grandi studiosi che studiano con un approccio diverso, è giusto che quando si propone una tesi nuova si cerchi di motivare tutto. Perché io penso che una tesi nuova di interpretazione, in questo caso di un'opera d'arte o di un'immagine, sia tanto più credibile quanto è motivata. Cioè Popper ci insegnava che non solo noi dobbiamo dimostrare le ragioni della ragione, del vero, ma dovremmo anche, per essere convincenti, dimostrare le ragioni del falso, cioè la falsificabilità di quel che diciamo. Cioè dobbiamo anche dire non solo perché noi riteniamo di avere ragioni, ma perché secondo noi gli altri invece no. Gli altri invece hanno degli errori di metodo, ad esempio, nell'analisi. Io ritengo di aver sviluppato una certa capacità, una certa sensibilità, innanzitutto facendolo. Cioè se voi avete una passione, ognuno di noi ha una passione nobbi, perché poi la approfondite? Perché la ripetete? Continuate. Non è che fate solo un viaggio, fate cento viaggi. Non è che leggete solo un romanzo, leggete cento romanzi. E allora acquisite una sensibilità. E così ho fatto io con le immagini, con l'arte, con certe immagini d'arte. Se mi fate vedere il trittico di Macrino d'Alba, la pala di Macrino d'Alba, che è stupenda, che abbiamo qua nel Palazzo del Vescovo, io non so dirvi nulla, perché è un capolavoro, ma è un'opera con una iconografia normale, consueta, tradizionale. Quindi o sei uno storico dell'arte, che conosci tutta l'arte, il fine del Quattrocento, o altrimenti non puoi dire nulla. Qua so dire perché il Cenacola, la primavera di Botticelli, la Melanconia di Due, perché è un'altra cosa che ho analizzato, vi farò una citazione, il quadro che abbiamo alla canale e questo, sono solo questi cinque cose che ho fatto, per il modo approfondito, hanno una ricchezza tale linguistica, che vanno oltre l'iconografia, cioè il linguaggio corrente dell'epoca. Sono universali, vanno oltre perché rinnovano il linguaggio e incrociano i linguaggi, quindi vanno a una profondità tale, che non è solo l'arte, non è solo la pennellata, è un racconto di significati. E io nel mio sguardo sull'arte mi concentro nel cercare il significato, per quello che piace a me. Cioè io voglio sapere qua cosa sta succedendo. Qui poi sono avvantaggiato, perché non si sa quasi nulla di Giorgione, perché D'Annunzio lo definiva è più un mito che un artista, cioè è esistito ovviamente, ma non si sa quasi nulla. Non si sa assolutamente nulla di questo quadro e nemmeno del suo committente, perché il committente è sempre fondamentale. Qua non sappiamo nulla. Nella primavera di Botticelli qualcosa sapevamo, per chi non c'è stato nella conferenza scorsa, sapevamo la data di realizzazione, il committente che era il governatore di Firenze e ha chiaramente un quadro allegorico, c'è un tema dominante che è quello primaverile, quindi se aveva un qualcosa da cui partire, ad esempio il linguaggio mitologico, qua, da dove partiamo? Non abbiamo nessun appiglio, né interno al quadro, né esterno al quadro. Ecco la grande sfida. Per cui avere un occhio vergine e una sensibilità allenata può essere utile. Vi dicevo, com'è che ho iniziato ad analizzare il mio metodo, poi l'ho razionalizzato dopo? Io ho iniziato così, per istinto, per intuizione, cerchiamo di capire cosa sta succedendo, cosa significa? Perché su Leonardo, lì era più facile partire, perché si sa cosa succede, è un linguaggio religioso, c'è Gesù, e quindi il soggetto narrativo in quel caso era evidente, no? Allora in quel caso però mi sono chiesto come Leonardo ha interpretato il Vangelo, cosa che viene data per scontato. I Vangeli sono quattro innanzitutto e si possono leggere in infiniti modi diversi. Allora mi sono chiesto, ad esempio, una domanda essenziale, la domanda sull'identità. La logica umana che usiamo noi tutti i giorni, non solo i filosofi, è fatta molto semplice, ha tre principi, i principi di identità, i principi di non contraddizione, e i principi di causalità. Le mie domande sono sull'identità. Allora mi sono chiesto sul Cenacolo, perché Gesù ha il centro? E poi, che Gesù è? Sono quattro Vangeli, Gesù si può descrivere o visualizzare in infiniti modi, come qualsiasi realtà complessa. E allora ho ricavato dei risultati. È un Gesù, secondo me, dell'Apocalisse, è un Gesù del Vangelo di Giovanni, è un Gesù che divide in due le schiere degli Apostoli, perché giudica, e allora ho ricostruito poi il Cenacolo come sintesi universale di tutta la teologia, di tutte le conoscenze cosmiche, anche la filosofia della natura, in parte anche l'alchimia, e via dicendo. Sulla primavera di Botticelli ho fatto una cosa simile. Chi sono questi personaggi? La domanda è che potrebbe fare un bambino, no? Cioè non mi interessa la cultura neoplatonica, quella l'hanno già studiato gli esperti. Io voglio sapere chi è la donna al centro della primavera di Botticelli. Lì ho fatto poi un ragionamento di metodo sul linguaggio, dicendo ma questo linguaggio mitologico mi spiega tutto nella primavera? È un trattato di mitologia? No. Secondo me, sì. Secondo me è un'allegoria cristiana che usa la mitologia come strumento di comunicazione. Quindi c'erano almeno due linguaggi nella primavera di Botticelli. Faccio adesso un esempio sulla melanconia di Durer, perché è particolarmente interessante ed è particolarmente anche quello enigmatico. Allora, se lo trovo subito... Eccolo qua. Melanconia. È un'opera che amo molto come molti di voi. Si vede abbastanza bene. Qua, anche questa è un'opera super studiata, però vedete com'è complessa? Qua è tutto allegorico. Sembra che Durer si è divertito a fare il caos per non farci capire magari qual era il cuore dell'opera. Uno dei miei metodi, modi di ragionare, è che l'opera è una. Deve avere un significato dominante che la porta... È un'unità organica, no? Deve avere un'identità centrale. Poi possono esserci dei sublinguaggi, dei messaggi cifrati, dei significati secondari, ma deve esserci un significato centrale, il cuore dell'opera. I grandi esperti l'hanno studiata quest'opera a livello raffinatissimo. Ad esempio, Calvesi ha studiato questo quadrato qua, il cosiddetto quadrato magico, di base 4, cioè legato quindi a Giove, che ha dei numeri che sommati fanno sempre 34 perché si riteneva che questo quadrato e questi numeri scacciassero la malinconia. Altri hanno studiato altri elementi. Panoschi, grandissimo studioso, iconologo, cioè ragionatore, filosofo dell'immagine, ha studiato la faccia di questo angelo. È melancolico, che non è esattamente la tristezza che noi oggi, come noi percepiamo la tristezza, la melancolia è la bile nera, cioè è uno stato di profonda angoscia mista sdegno al fremere, quindi è un qualcosa di, è un umore, cioè l'umore, la dottrina di Aristotele, Ippocrate, è l'umore sanguigno, l'umore iroso, quello flemmatico, tranquillo, quello melanconico. Quindi è un carattere cosmico. Tutti avevano già studiato un po' tutto sulla melanconia di Dure, ma io mi sono chiesto anche qua la domanda più semplice sull'identità. Se c'è un personaggio principale, che è ovviamente questo angelo, mi sono chiesto chi è, ma che angelo è? Siccome c'è una gerarchia angelica, abbiamo tanti nomi di angeli nella letteratura, nel sacro scritturo, e allora ho guardato, ma questo angelo ha degli attributi, ha delle chiavi, ad esempio, qui si vede poco, ma ha delle chiavi, e c'è un incensiere, per terra però, strano, sembra quasi dissacrante, l'angelo lo tiene in mano l'incensiere, perché è incensa Dio. Allora, avendo tradotto l'Apocalisse, mi è venuto, magari anche per automatismo, ma penso di averci azzeccato, è l'angelo, di cui parla, mi sembra, il capitolo ventesimo dell'Apocalisse verso il fondo, che con le chiavi scende dal cielo alla fine del grande conflitto fa bene male della storia dell'uomo, chiude il diavolo, il dragone, se non ricordo bene, nel pozzo dell'abisso per mille anni. Quindi chiude il ciclo un po' della storia dell'Apocalisse e poi arriva la Gerusalemme celeste. Però c'è anche l'incensiere per terra, perché c'è un altro passo dell'Apocalisse, anche qua precisissimo, che dice che quando la malvagità di Babilonia giunge al culmine e Babilonia viene menzionata di fronte a Dio, come fosse una sala col trono di Dio di fronte a lui, Dio si incazza, scusate il termine un po', non è abbastanza rispettoso, si incazza e allora cosa succede? I sette angeli che stanno di fronte a Dio escono, smettono questa liturgia celeste di continua incensazione e lode a Dio, escono, il Tempio Celeste di Dio si riempie del fumo dell'ira, scritto così in Apocalisse, il fumo dell'ira di Dio e si fa silenzio in cielo per mezz'ora. La mezz'ora in cielo, secondo San Pietro, corrisponde a 40 anni, perché un giorno qua, mille anni qua sulla terra sono un giorno in cielo. Quindi, e allora ho detto, ma come mai allora? Cosa ci fa qua? Perché è arrabbiato? Allora poi dobbiamo chiederci perché è arrabbiato? Una volta che sappiamo chi è, la persona può avere tante espressioni come nella nostra vita. Allora perché quest'angelo dell'Apocalisse che esce dal Tempio perché Dio è arrabbiato ed è quello che poi dovrà chiudere il diavolo nel suo pozzo è arrabbiato e aspetta? Non è proprio triste, in realtà è arrabbiato e aspetta. Perché c'è qualcosa che sta accadendo, una cometa che scende. sta iniziando il tempo dell'Anticristo, i tre anni e mezzo. Lui non può fare nulla, lui aspetta perché deve scatenarsi l'Anticristo e lui lo chiuderà alla fine quando è stabilito da Dio il tempo. Ma che conferma trovata? Dove è scritto tre anni e mezzo? Questo è un esempio di linguaggio mediato, poi lo vediamo nella Tempesta di Giorgione, cioè di criptazione. Io la cosa te la dico ma in modo indiretto e te la nascondo attraverso anche la numerologia. I tre anni e mezzo sono, secondo la mia ipotesi, questa scala di sette pioli e l'idea della metà data dalla campana ferma, da questo filo piombo, qui c'è un filo piombo che scende in una meridiana a metà e dalla clessidora che è quasi a metà. La metà di sette è tre e mezzo. Sette è il numero di Dio, tre e mezzo è il numero del nemico perché è incompleto e quindi vorrebbe imitare Dio ma si ferma a metà. Vedete che ho dato una risposta molto precisa. Non mi interessa lo stile, non so neanche come farà durare le incisioni, non mi interessa. Non mi interessa gli altri aspetti che presuppongono una grande conoscenza, mi interessa il significato e siccome le opere allora non le facevano perché si divertivano ma le facevano perché il committente voleva un preciso significato da dare a dei precisi destinatari, non a tutti. Non c'era l'arte come adesso da mettere nei musei. Il nobile o il cardinale o il nobile la teneva a casa sua ma nella sala di rappresentanza ad esempio ma inizia proprio qua, inizia il Cinquecento, prima era quasi tutta arte sacra e la vederono pochi in lus di personaggi come nel caso del Cenacolo solo i frati ad esempio. Quindi questo è un esempio di opera enigmatica ma meno enigmatica della tempesta di Giorgione. Perché? Perché abbiamo comunque un linguaggio. Evidente che sono allegorie. abbiamo un solido platonico uguale a quello dipinto da Leonardo nel libro De Divina Proporzioni di Luca Pacioli in matematico che era molto più importante di Leonardo come cultura tant'è che Leonardo si mette a fare l'illustratore dell'opera matematica e mistica di Pacioli. Abbiamo un cane che è avvolto qua che dà l'idea del circolo come il serpente che si morde la corda. Abbiamo qua un elemento con un bracere che è alchemico anche qui. Abbiamo tante altre cose. però il significato centrale dobbiamo chiederci la domanda. Tornando alla tempesta di Giorgione invece non riusciamo a farci la stessa domanda sull'identità perché l'opera ci sfugge. Ci sono state più di 42 interpretazioni sulla tempesta di Giorgione e una diversa dall'altra. Ciascuno ha detto una cosa diversa sull'identità dei personaggi. Questo è Adamo questa è Eva che partorisce Caino. questo è uno che passa di lì e questa è la figlia del Faraone che salva Mosè. Poi mi devono spiegare perché è nuda e perché è incazzata anche lei un po' triste incazzata. La figlia del Faraone non poteva avere figli e aveva dovuto essere felice di adottare un figlio. Di tutto hanno detto questo è Hermes Mercurio come allegoria della sapienza questa è la madre natura questo è Marte e questa è Venere questo è Davide e questa è Bezzabea. possono essere chiunque quindi la domanda sull'identità qua fallisce quando uno ha un metodo deve anche conoscere i propri limiti il metodo deve essere fluido non è che perché ha funzionato su due o tre opere deve funzionare sempre è qui che anche i grandi studiosi cadono ne indovinano due o tre e allora vanno avanti così no ogni opera è unica questa è soprattutto massimamente unica perché non ha modelli precedenti ed è rarissimo nell'arte non avere modelli precedenti e non ha imitatori successivi è quello che in letteratura si chiama Apex cioè un caso unico e questo già deve farci riflettere molto io sono partito da quella che al liceo quando ci insegnavano Socrate dicevano l'accettazione dell'ignoranza noi eravamo giovani prendevamo in giro Socrate che diceva ah sì io so di non sapere e lì inizio ad essere sapiente sono cavolate sono sofismi invece certe volte funziona io sono partito da dire ma io non so assolutamente nulla di Giorgione ho letto solo due libri adesso vi dico quali sono non so nulla di quest'opera ho esercitato un po' l'interpretazione in queste opere che vi ho detto prima proviamo a vedere cosa ci ricavo e ho subito ammesso cercando di essere umile la realtà cioè il mio metodo cioè la domanda diretta sull'identità dei personaggi fallisce totalmente perché qua non ho nulla sono personaggi indeterminati possono essere chiunque per quello secondo me le 42 interpretazioni pure dei grandi luminari bravissimi in altri campi sono tutte sbagliate non ce n'è 41 giuste e una 41 sbagliate e una giusta perché si accaniscono nel cercare l'identità quando se Giorgione ha voluto lasciarli così indefiniti avrà avuto dei motivi adesso mi fermo un attimo poi vi dico quali sono secondo me i tre errori di metodo che tutti fanno e perché io ho ragionato in modo diverso quindi sono partito da dire io non ci capisco nulla lo devo ammettere perché se io riesco a circoscrivere la mia ignoranza allora se io dico io non capisco nulla qua allora forse da quest'altra parte c'è la strada giusta sembra un gioco di parole invece è interessante la stessa parola comprendere sapere che viene dal latino significa abbracciare quando io abbraccio una persona sento il suo corpo ne sento i confini lo conosco quindi so che invece un'altra persona è diversa quindi io devo dire come mai non riesco a capirci e come si fa semplicissimo dobbiamo interrogarci perché è così enigmatico e confrontare questo quadro enigmatico con altri quadri enigmatici uno l'abbiamo visto la melinconia di Durer e che differenza c'è fra questa e Durer che qua non vedo simboli poi qualcuno ci sarà ve lo dico però apparentemente dov'è il simbolo? sembra tutto molto naturale e qua c'è un errore di metodo che gli altri fanno fanno un silogismo dicono non la capisco quindi è simbolica quest'opera è simbolica quindi devo andare a cercare la soluzione nelle tre grandi famiglie di simboli linguaggio religioso linguaggio mitologico linguaggio letterario che io escludo tutti e tre perché? perché anche qua bisogna essere un po' abituati alla filosofia del linguaggio che io fortunatamente all'università avendo un professore di filosofia del diritto a Medeo Conti un luminare a livello mondiale che ci fece invece filosofia del linguaggio e avendo avuto la fortuna di fare cose e conoscere bene il suo fratello che è un grande scrittore ed è un grande conoscitore della narrativa Giulio Mozzi che mi ha presentato il suo fratello che è un grande studioso dei meccanismi narrativi il professore Davide Liccione che non è solo un bravo psicologo ma è un filosofo del linguaggio mi sono arricchito facendo il magistrato un orario perché lo dico ogni volta? perché io non sono medico ma come tutti gli avvocati chi lavora o i giudici chi lavora nel diritto non siamo medici ma dobbiamo valutare una perizia medica non siamo ingegneri ma dobbiamo valutare una perizia ingegneristica e allora cosa facciamo anche se spesso non ce ne accorgiamo ragioniamo sul linguaggio ragioniamo sulla logica non solo sul diritto dobbiamo vedere se l'argomentazione del perito in questo caso qua l'argomentazione degli altri storici dell'arte che hanno studiato quest'opera è coerente è motivata è lineare esplicita i criteri se non lo è allora ricominciamo da capo facciamo tabula rasa nel cervello e facciamoci altre domande quello che mi insegnò il mio professore di filosofia del diritto è non cercare subito la risposta impara a porti delle buone domande quando tu ti poni delle buone domande dentro c'è già la risposta perché se ci ragioniamo adesso quello che vi dico è una banalità ma se uno ci ragiona non è più una banalità la soluzione c'è già siamo noi che dobbiamo riconquistarla è dentro il quadro perché basta analizzare il paesaggio e fra poco lo vedremo e il paesaggio qua è il vero protagonista non è fatto a caso questo non è un paesaggio del settecento fatto così per diletto per evasione col cervo o dell'ottocento dove il paesaggio è puramente estetico fine se stesso o non ha un significato particolare siamo all'inizio del cinquecento anche se non sappiamo la data precisa io poi proverò anche a datarlo con lo scarto di due anni quindi il paesaggio vedremo che ha una struttura interna precisissima delle corrispondenze fra destra e sinistra alto e basso incredibili quindi non è vuol dirci qualcosa questo paesaggio questo è stato una delle altre strade che ho portato avanti se non ci capisco nulla sulle figure andiamo sul paesaggio che qua è l'uovo di Colombo se uno però fa un ragionamento logico perché la figura di per sé conta poco se non è inserita in un contesto un errore che fanno spesso gli studiosi solo degli aspetti tecnici io qua ho un erme sono un mercurio una venere la ritrovo in un altro quadro quindi la stessa cosa no certamente ci sono delle forme che hanno successo nei secoli che vincono prevalgono ma se io ho la stessa venere anche simile di postura la metto in un altro contesto può cambiare totalmente il significato perché la uso ad un altro scopo e così qua se non risolvo l'identità dei personaggi devo ripartire ricostruire il contesto non posso che analizzare come ho fatto io piano piano millimetro per millimetro tutti i dettagli del paesaggio e la struttura interna che fra poco faremo vi faccio un esempio per capire bene questo discorso di linguaggio su altri quadri enigmatici altrettanto belli questo stupendo li amo molto il sogno del cavaliere o viene chiamato così di Raffaello o semplicemente allegoria non sapendo come chiamarlo come anche la tempesta non è il vero titolo la tempesta è un commento di Vasari non sapendo come chiamare la tempesta come la primavera di Botticella chiamiamo tempesta perché almeno una cosa chiara la capiamo che il cielo sta per piovere e c'è il fulmi qua non sapendo cosa diavolo succede è una chiamata il sogno del cavaliere allegoria questo quadro enigmatico anche lui è un enigma diverso dalla tempesta più facile perché almeno capiamo subito che è un allegoria non sono personaggi della realtà neanche del tempo di Raffaello perché sono rigidi hanno una postura poi hanno degli elementi simbolici tipici la giustizia simboleggiata dalla spada la sapienza o le sacre scritture o comunque da questo libro qua questa struttura poi ha dei precedenti o dei contemporanei cioè ci sono altre opere poche per la verità ma ci sono fatte così ne ho scoperte una per caso sempre perché dipende dal mio ufficio in un palazzo in Valtellina palazzo Besta a Teglio che c'è un allegoria molto simile un personaggio anche lì che dorme con la testa alle radici di un albero e due personaggi allegorici a lato in Valtellina uno suona il violino l'altro ha un bastone nodoso sono diversi da questi ma la struttura è uguale e allora ci sono già degli studi su questa opera che ci dicono qualcosa in più di quanto si può dire il primo occhito sulla tempesta di Giorgio ci dicono che c'è Senofonte che parla di Ercole al Bivio fra virtù e piacere il sonno di Scipione e di Cicerone l'ipneurotomachia dei polifili di Francesco Colonna cioè ci sono dei riferimenti Giacobbe che dorme sogna la scala celeste cioè il sonno e il sogno c'è in Dante un viaggio iniziatico cioè c'è tutta una tradizione nella tempesta di Giorgio non c'è nulla di questo assolutamente nulla vediamo ancora velocemente qualche altro capolavoro enigmatico ecco adesso ho spento tutto stupendo scusate che recupero subito vediamo Bellini ad esempio un altro genio di quel periodo è Bellini con la sacra conversazione Bellini allegoria sacra o sacra conversazione guardate che meraviglia questo è un quadro fantastico anche questo misterioso affascinante però meno enigmatico della tempesta di Giorgione perché comunque abbiamo dei Santi sono tutti personaggi sacri questo con la spada probabilmente sarà San Paolo perché l'attributo tipico di San Paolo è la spada un San Sebastiano una Madonna dei Putti paesaggio meraviglioso anche qua i Putti sono un po' più misteriosi e c'è poi il modello tipologico della sacra conversazione cioè di più personaggi sacri messi vicini che stanno parlando questo è bello ovviamente il quadro non è sonoro ma stanno dialogando qua la domanda è evidente cosa si stanno dicendo qual è il tema della discussione è difficile perché se le prendi singolarmente li capisci se li metti insieme in questa posizione relazione infatti non si sa quasi nulla di preciso su quest'opera però c'è il modello è un'allegoria non sui singoli personaggi ma sulla loro relazione o comunque in qualcosa di criptato cos'è che capiamo da tutto questo perché mi sono dilungato ma questa è un'allegoria perché una delle caratteristiche essenziali del simbolo dell'allegoria di questi linguaggi che io chiamo mediati qual è? che io posso anche non capirla ah questo è sempre Giorgione e la Giuditta io posso anche non capire un'allegoria e un simbolo ma capisco che c'è mi rendo conto quando c'è un simbolo e un'allegoria nella tempesta di Giorgione no quindi che linguaggio è? è lì che ho iniziato a ragionare che linguaggio mediato è? e allora hanno iniziato a dire ma guarda che non c'è solo il simbolo dell'allegoria c'è anche l'allusione c'è anche la citazione c'è anche la criptazione attraverso numeri forme geometriche hanno iniziato a espandere un attimo la mente su quei linguaggi che oggi abbiamo persi ma fino alla fine del settecento erano l'ordine quotidiano poi abbiamo avuto la rivoluzione francese l'illuminismo prima ancora quelle altre due evoluzioni che sono quelle industriali e anche il romanticismo io lo considero una rivoluzione cioè un cambio completo di paradigma e si è perso il linguaggio simbolico o comunque il linguaggio mediato questo è un altro esempio interessante questo quadro e Giorgione Giuditta non sembra enigmatico c'è la solita Giuditta che ha tagliato la testa alloferne alla spada dov'è l'aspetto allusivo? perché una delle caratteristiche di Giorgione è l'allusività come Leonardo alcuni studiosi dicono che Giorgione ha conosciuto Leonardo che è stato ha soggiornato a Venezia fra poco c'era una mostra su Leonardo a Venezia e dicono che comunque anche se non l'ha conosciuto direttamente ha visto le sue opere può essere perché in effetti se vedete tutte le altre opere di Giorgione tre filosofi Vene e Cupido sono molto carichi di linguaggi mediati di allusività qua è tutto normale la cosa meravigliosa veramente che potrebbe non lo sapremo mai ma potrebbe avere un riferimento all'alchimia o alla mistica qui al Cantico dei Cantici è il colore guardate come degrada il colore da un bianco quasi aereo quasi invisibile a un rosso passa molto gradualmente una raffinatezza incredibile per passaggi impercettibili quasi pixel di un televisore per passaggi impercettibili abbiamo i due colori base della mistica dell'Apocalisse del Cantico dei Cantici e dell'alchimia il rosso il color luce l'aria non a caso il rosso diventa più intenso vicino alla testa in cui non si vede il sangue ma sembra che la testa impregni di sangue e la veste quindi questo è un esempio di forma perfettamente canonica quasi banale ma dentro questo c'è il genio non sappiamo se è solo di Giorgione anche del committente abbiamo un'allusività questo concetto di allusione ci aiuta molto nella tempesta un'ultima criptazione una delle ultime criptazioni questa è un'immagine rarissima che ho trovato per caso su internet non so più dove ho trovato il trionfo di Saturno di Peter Bruegel il vecchio qui non c'è nulla di enigmatico tranne questo oggetto qua questa è un'enigmaticità che deriva dal fatto che noi abbiamo perso il linguaggio simbolico qui c'è Saturno che divora un bambino divora i suoi figli cioè il tempo Kronos che qua vedete è un paesaggio normale dopo che passa Saturno la desolazione la distruzione perché il tempo consuma tutto c'è anche in tiepolo tipico vedete che meraviglia il serpente che si morde la coda l'elefante perché l'elefante è lento è pesante come il pianeta Saturno che è il più lento il più lontano l'unica cosa enigmatica almeno per me ma penso anche per molti studiosi questo strano oggetto è una pendola è un orologio questa idea del filo piombo c'è anche in due l'abbiamo visto che c'è sopra ma sicuramente è collegato all'immaginario di Saturno sotto le spoglie le prime nature morte il caos gli oggetti sparpagliati dopo il passaggio devastante di Saturno il cavallo Saturno è la malinconia il cavallo con la testa bassa che guarda verso la terra perché Saturno simbolicamente è legato alla terra al freddo e vedete un cavallo più oscuro e uno più bianco e sopra il cavallo c'è un sole e forse potrebbe ingrandire qui può esserci un riferimento all'alchimia il sole e la luna che si congiungono vedete in quanti modi io posso dire delle cose in modo indiretto con la citazione con la numerologia quindi quello che mi sono chiesto io ma che linguaggio c'è nella tempesta non c'è simbolo allegoria c'è un'allusività è allusiva ma quali sono i termini dell'allusività vi faccio vedere ancora scusate se mi dilungo ma è molto utile un esempio di crepitazione testuale che sarà oggetto della mia prossima ricerca penso da quest'autunno qui siamo ad Assisi nella chiesa di San Damiano nella sala del transito di Santa Chiara dove ha vissuto gli ultimi sui giorni di Santa Chiara vedete questa è uno degli enigmi più grandi a livello della tempesta di Giorgione Inri Iesus Nazarenus Rex Iudeorum la N è al contrario la N è al contrario è molto rara ma c'è a Tortona nella grata della cappella della croce sulla destra in Duomo in cattedrale in un'opera di Durer e sto cercando altri esempi la N è al contrario molto interessante la mia ipotesi che ci sia un'allusione all'alchimia o comunque a un linguaggio criptato se togliamo la N Iri diventa anche palindromo lo leggi uguale da destra a sinistra e la N siccome gli alchimisti usavano un linguaggio che ogni lettera era lacrostico di qualche altra parola di qualche altra sostanza un'ipotesi potrebbe essere questa già Nazarenus in ebraico vuol dire germoglio quindi già una parola criptata questo è veramente un mistero notevole che non è stato indagato abbastanza per finire scusatemi poi andrò più veloce una criptazione testuale non voglio fare il tuttologo e non sono un esperto di Petrarca ma per farvi vedere gli infiniti modi in cui si può nascondere il significato e se anche io non capisco tutto il significato perché qua io non so cosa sta dicendo Petrarca non lo sa nessuno questo sonetto di Petrarca della Cerva Candida stupendo nessuno oggi a meno fino ad oggi sa cosa veramente significa come sulla tempesta io ho iniziato ad analizzarla andando avanti neanche a lume di naso proprio non sapendo nulla allora da dove sono partito uno appunto da ragionare sulla mia ignoranza sul metodo e su che linguaggio che tipo di enigmaticità c'è nella tempesta l'altro mio canale di analisi è stato la struttura io posso descrivere una cosa anche se non la capisco come qua io non so cosa sta dicendo ma se analizziamo la struttura in due minuti se uno è abituato a interpretare è abbastanza semplice vedere dei riferimenti che ci fanno entrare in un mondo qua c'è un mondo una candida cerva sopra l'erba verde ma parla ha due corna d'oro fra due riviere cioè fra due fiumi ma la parola riviera mi dà l'idea della riva quindi una cerva candida vicino all'acqua alla confluenza di due acque all'ombra di un alloro quando? levando il sole all'alba in primavera cioè in pratica questa cerva è quasi invisibile perché è bianca all'ombra vicino a un'acqua che prende la luce è quasi invisibile per questo vabbè all'oro è la prima criptazione più semplice secondo gli studiosi all'oro l'auro l'aura la donna amata da Petrarca quindi la cerva candida è l'aura ma ci sono altri due tesi una mistica e un'alchemica perché la cerva il cervo è il simbolo del mercurio nell'alchimia qua abbiamo appunto una cerva che sta in mezzo agli alimenti in mezzo all'acqua e alla luce della terra non si capisce bene dove diavolo sia e l'altra è mistica perché nel cantico dei cantici l'amato lo sposo divino secondo alcune le più frequenti interpretazioni allegoriche è Dio stesso viene paragonato a una capra selvatica e a un cervo perché è imprendibile il cervo nei romanzi di re Artù del medioevo compare spesso il cervo bianco come immagine di Cristo o la cerva bianca come immagine della chiesa anche Petrarca aveva la sua spiritualità era terziario francescano per cui però non sapremo mai se è un'allusione all'aura e basta o se è anche un'allusione all'alchimia o la mistica però se analizziamo la struttura è una meraviglia capiamo l'abilità che avevano di incastrare dei mondi perché se andiamo avanti innanzitutto paragona poi la cerva a un tesoro allora interessante ci sono delle pietre prezioni diamanti topazzi qui lasciamo stare perché prima di andare a vedere la simbologia minerale è troppo lunga vediamo la fine come finisce noi sappiamo dove è la cerva all'inizio ma non sappiamo dove è Petrarca alla fine invece sappiamo dove è Petrarca cade in acqua quindi Petrarca probabilmente si avvicina alla cerva e quando cade lei sparisce cioè vedi che c'è un incrocio si scambiano le posizioni strutturali all'inizio sappiamo dove è la cerva e non sappiamo dove è Petrarca una cerva in mezzo al cosmo quasi in mezzo agli elementi della natura alla fine sappiamo dove è Petrarca che però cade in acqua quindi anche lui si mescola gli alimenti e perde un po' coscienza e la cerva scappa quindi la cerva ti appare ma se tu ti avvicini lei si allontana e qui il sole è mezzogiorno questa è molto è una struttura che è tipica importante il sole è mezzogiorno dopo cosa c'è? gli occhi e dopo l'acqua quindi noi mettiamo in verticale tre elementi il sole l'occhio e l'acqua sono collegati il sole e l'occhio la luce la circolarità dell'occhio l'acqua l'occhio è umido l'occhio è liquido questo nel linguaggio simbolico ma anche nella fisica anche nell'alchimia mezzogiorno occhio e acqua se uno la deve leggere in modo mistico è facile l'acqua è legata alla morte il battesimo è la morte comunque il cambio di stato il cambio di coscienza ora lasciamo stare queste cose qua e torniamo al nostro capolavoro enigmatico vedete quanti infiniti allora mi sono chiesto la tempesta di Giorgione non ci sono simboli non ci sono c'è un'allusione l'ho confrontato con altri capolavori enigmatici e ho analizzato poi la dialettica interna cosa possiamo dire a livello di struttura senza pur capire lasciamo stare noi non vogliamo affannarci su cosa significa chi sono i personaggi vogliamo vedere la struttura beh ci sono degli elementi interessantissimi abbiamo un fiume che divide in due i due personaggi principali quindi c'è un trauma non c'è bisogno di essere psicologi per capire che questo elemento viene chiamato infatti proprio dagli storici dati discontinuità cioè i due personaggi principali che hanno un dialogo anche se è unilaterale perché l'uomo guarda verso la donna non guarda proprio gli occhi ma guarda verso la donna la donna guarda a noi quindi questo è un altro elemento strutturale la donna è la protagonista perché guarda a noi e l'uomo guarda la donna quindi la donna è la protagonista vedete che piano piano mettiamo dei tasselli che sembrano poco importanti ma stanno restringendo il campo c'è un trauma dato da questa frattura quindi l'uomo è vicino fisicamente perché il quadro è piccolo ma in realtà c'è una incommunicabilità c'è una distanza l'altra cosa strana è che è un quadro molto piccolo è all'inizio del cinquecento il ritratto non era così diffuso è un quadro di questo tipo che non è un ritratto di un personaggio così piccolo è molto strano poi c'è un trauma cioè c'è un disequilibrio una discontinuità dentro la figura della donna perché non serve neanche ingrandirla però se vogliamo ingrandirla un attimo la donna lo capite immediatamente se guardate bene dov'è il trauma dov'è l'anomalia dov'è la stranezza è nuda e allatta quindi non solo e sposa perché è un velo quindi abbiamo una donna madre e sposa nuda abbiamo quattro elementi che non sono molto armonizzati insieme ma non solo perché anticamente erano moralisti adesso non lo siamo non è così facile il gioco cioè a volte siamo più moralisti oggi che in antichità non è un discorso morale è proprio un discorso di disarmonia o di elementi che non capiamo come mai sono comprese come mai la donna che è allatta sotto è nuda come mai la sposa è da sola sull'erba c'è un disagio c'è qualcosa di strano ora vedremo l'ingrandimento del volto che è impressionante della donna grazie a questo a questo libro che mi hanno spedito dal Veneto un libro gigantesco come formato ho potuto apprezzare bene ed è un volto che se uno lo guarda bene si può addirittura commuovere nel tempo perché è molto una psicologia molto precisa è molto interessante è un volto molto realistico una psicologia individuale precisa e questo quindi analizzando solo la struttura non mi interessa sapere chi è ma io escludo per esclusione già ti tolgo tutti i personaggi mitologici religiosi perché venere non allatta l'ho detto nella primavera di Botticelli nessuna figura mitologica femminile greca è mai raffigurata durante l'allattamento perché i popoli antichi avevano un pudore della nascita la nascita è trauma c'è sangue nella nascita l'uomo greco non guarda mai il parto la donna sta nel gineceo e gli portano il bambino certe volte mesi dopo quindi se ci fate caso nessuna né venere né giuno nessuna figura mitologica greca viene raffigurata mentellata e non viene neanche raffigurata nuda a meno che la nudità abbia un valore allegorico nel senso prima di Botticelli è quasi nuda ma in realtà c'è un velo ma c'è un allegoria quindi la nudità di per sé se non c'è un allegoria non viene raffigurata qua dove è l'allegoria non ci è dato sapere qualche studioso ha detto ah ma la donna che è allatta è allegoria della carità sì ma nel 600 nel linguaggio religioso qua dove è il linguaggio religioso non siamo in una chiesa non è un quadro in una chiesa nel 600 nelle chiese ma la donna non nuda però la donna vestita con un seno fuori che è allatta è l'allegoria della carità ma non in questo contesto quindi non puoi dire che è uguale la forma ma cambiando il contesto vuol dire lo stesso significato no tu devi dirmi qua cosa significa una donna sposa madre e mezza nuda quindi c'è e vedete il viso è un viso che non può essere iside come qualcuno dice perché iside è la dea della serenità della felicità della fecondità delle messi questa è incazzata anche lei come l'angelo di Durer questa è angosciata vedete che c'è ti guarda fisso c'è un'aspettativa se vogliamo fare un profilo psicologico minimale pur senza voler sapere chi sia è una donna che ha una sofferenza e si aspetta una risposta e questo già è già un qualcosa e ci fermiamo qua per adesso come profilo psicologico se andiamo avanti a vedere la struttura beh la struttura qua è incredibile perché abbiamo qui un edificio in rovina e qua sopra un tetto in rovina quindi una corrispondenza diagonale fra destra e sinistra poi ci sono anche le colonne spezzate abbiamo un ponte che collega abbiamo un ponte con quattro piloni e qua se ingrandiamo abbiamo un edificio che ha uno stemma che è un carro poi lo vedremo meglio dopo quindi con quattro ruote cioè ci sono delle incredibili corrispondenze interne all'opera non solo a livello allusivo poi lo vedremo meglio qui sopra c'è una cicogna cioè un cielo bianco secondo me è una cicogna che è nello stesso lato dove c'è la donna che ha una mantellina bianca donna cicogna simbolicamente più che simbolicamente proprio a livello archetipico ovviamente è omogeneo poi c'è un dialogo fra i due personaggi anche se la donna non guarda l'uomo quindi sembra che non sappia di essere guardata ma guarda solo noi quasi chiedendoci aiuto e l'uomo sembra sorvegliarla da lontano adesso vedremo poi il volto dell'uomo c'è una corrispondenza ci deve essere un legame fra i due perché? perché l'uomo ha la mantellina rossa lei ha la mantellina bianca ci sono degli elementi complementari cioè distinti ma complementari la donna ha i capelli rossicci poi hanno tutte e due delle posizioni dei piedi particolari vediamo ora il volto dell'uomo che è ancora più enigmatico anche se non è protagonista però è interessante si vede poco si è molto scuro è un volto anche qua che sembra purtroppo forse è un piccoletto è un volto che anche lui ha una sofferenza ha una preoccupazione ha una preoccupazione sembra sorvegliare la donna però sembra avere anche lui una perplessità una perplessità una difficoltà a rapportarsi con la donna riguardo quest'uomo anche qua si è detto di tutto si è detto di tutto ad esempio scervellandosi su quest'asta lunga che è nel braccio quest'asta lunga è un poeta è un guerriero è un nobile l'asta è un segno di condottieri militari anche qua non ha senso scervellarsi perché allora io mi diverto anch'io ad aggiungere posso dire che è un gondoliere non usano un bastone lungo i gondolieri può essere un pescatore l'asta può servire a misurare la profondità di quello stagno nero che c'è lì vicino nessuno ha mai detto una cosa invece più interessante l'asta potrebbe essere uno strumento di misurazione nell'apocalisse c'è ma anche nel linguaggio simbolico l'asta misura lo spazio un geometra è un architetto quindi e poi nell'apocalisse diventa anche simbolico misura lo spazio e misura anche il tempo quindi in realtà non si può andare oltre al fatto di dire che l'uomo partecipa della sofferenza della donna ma è un po' distaccato a delle perplessità perché l'immagine non ci aiuta oltre quindi è inutile accanirsi nel voler forzare l'opera dobbiamo trovare altre strade allora mi sono messo poi anche a ragionare sulla parola sul titolo sul falso titolo la tempesta pochi anni dopo la sua realizzazione già avevano i quasi contemporanei di Giorgione avevano perso loro stessi ricordo del significato dell'opera tant'è che abbiamo due documenti storici un tale Michiel che va a casa di Gabriele Vendramin che era poi il nobile Veneto presso il quale poi rimase l'opera ma non sappiamo quando entrò in suo possesso per cui qualcuno dice che la famiglia Vendramin era committente altri no non si sa questo Michiel va dentro a casa dei Vendramin e dice ho visto questo quadro del soldato e della zigana della zingara quindi non sapendo anche questo Michiel non sapendo come descrivere l'opera e non sapendo cosa fosse veramente la chiama il soldato e la zingara anni dopo verrà repertoriata nell'inventario di chi conserva questo quadro come Mercurio e Iside interessantissimo io quando ho iniziato a leggere la tempesta ho detto beh forse basterebbe tornare al nome antico di Mercurio Iside rimaniamo solo sull'interpretazione esoterica questo uomo è abbastanza elegante ha una certa postura che potrebbe essere Ermes Mercurio così il nome della sapienza delle arti c'è poi una storia mitologica molto bella di Mercurio che porta Io in Egitto Io la prima amante di Zeus perseguitata da Giunone da Hera Gira va persino a trovare Prometeo incatenato nel Carcoso poi trova pace e trova il suo regno in Egitto e secondo la tradizione greco-egizia Ermes diventa il primo faraone o meglio il figlio di Io Ermes Epafo che vuol dire il toccato Epafo con i capelli rossi c'è tutta una simbologia diventa il primo faraone il primo re d'Egitto e Io si confonde con Iside si sovrappone ci sono dei dipinti ellenistici dove abbiamo Iside che accoglie Io che arriva con Ermes ma comunque Ermes e Io hanno poi Epafo quindi nasce questa dinastia egiziana che poi ha ragione erodoto la religione greca viene dall'Egitto perché poi c'è la storia delle Danaidi quindi poi dell'Egitto che ritorna in Grecia vabbè quindi sembrava tutto risolto ma in realtà abbiamo visto che non abbiamo elementi per dire se avesse il caducero in mano ha un'asta non ha un'asta con due serpenti e Iside non viene mai raffigurata nuda e non viene mai raffigurata col volto corrucciato col volto angosciato quindi io sono rimasto allora sono tornato al nome tempesta quale tempesta? come ho detto primavera di Botticelli ma quale primavera? di che? può essere solo una tempesta climatica? insomma sarebbe un po' offendere l'intelligenza di tutti allora non serviva fare un quadro così complesso così allusivo per dire semplicemente che c'era una tempesta climatica se guardiamo bene infatti non farò più conferenze per un anno perché vedete che assomiglia molto al clima di oggi cioè abbiamo una vegetazione primaverile ma una terribile tempesta che incombe quindi qui non portiamo sfortune cerchiamo di non farci suggestionare troppo è una tempesta no linguisticamente anche qua torniamo al linguaggio siamo precisi è una minaccia di tempesta perché non sta piovendo sta arrivando la tempesta sembra una sciocchezza ma questa sfumatura è molto importante la vedremo fra poco quindi abbiamo una minaccia di tempesta quindi questa questa sofferenza questa inquietudine interna questa contraddizione interna c'è anche fra il primo piano dell'opera e il fondo non solo fra lui e lei divisi non solo fra lei divisa in se stessa come identità ma anche fra il fondo dove c'è già la tempesta e davanti dell'opera che non c'è la tempesta mi è venuto poi da fare una una considerazione un po' intellettualoide ma Umberto Reco nel nome della rosa dice cita quel medioevale che non mi ricordo chi è dice stata rosa pristina nomine nomina nuda tenemus cioè la rosa muore ci rimane il nome della rosa per quello ho dato il titolo il nome della rosa ma teniamo dei nomi nudi un po' un po' pessimiste come filosofia però sono i cosiddetti nominalisti del primo medioe del 1200 cioè quelli filosofi che iniziano a dire ma è il nome importante perché poi ci resta solo quello sono i primi filosofi moderni qua invece è il contrario il nome è finto il nome passa tempesta perché non ci dice nulla il quadro resta quindi dobbiamo ricostruire un'identità ci stiamo avvicinando ad entrare nel vivo prima di entrare nel vivo dobbiamo sgombrare il campo perché anche qua dobbiamo essere umili se i 42 persone estremamente colte specializzate studiose hanno detto la loro magari a ragione loro è inutile che la studi la tempesta tant'è che mentre la studiavo su internet ho trovato che due o tre anni fa è uscito un libro di Marco Poli la tempesta svelata Marco Poli è dirigente del ministero beni culturali della biblioteca statale di Lucca allora mi sono fermato e sono andato a comprare il libro ne ho letto tutto poi ho cominciato anzi certe cose di Marco Poli che se non me sbagli adesso ve le dico mi hanno incoraggiato ad andare avanti perché secondo me sono tutte sbagliate le interpretazioni precedenti non perché io ho la bacchetta magica sono sbagliate a livello di metodo come vi dicevo si accaniscono sull'identità dei personaggi e fanno tre errori di metodo cioè tre passaggi logici non dimostrati non motivati uno appunto pensano di risolvere tutto il quadro partendo dai personaggi quando non abbiamo non sappiamo neanche il contesto in cui sono inseriti quindi non possiamo dirlo soprattutto perché l'opera come vi dicevo non ha precedenti non ha modelli e non ha successivi quindi può essere confrontata solo con se stessa all'inizio e questa è già un'opera una lezione che purtroppo pochi seguono l'opera va lasciata a parlare bisogna lasciarla respirare bisogna metterci in un angolo analizzarla e bisogna leggere con se stessa ci dice molte cose attraverso l'esempio della struttura il terzo errore che fanno è quando cercano di dire Mosè Iside Adamo Ed Eva perché arrivano queste conclusioni studiosi fino adesso perché fanno quello che io chiamo confronti cioè fanno dei confronti di due tipi o formali cioè prendono la figura a questa posizione del braccio a questa posizione quindi la postura confronti formali o tipologici questa figura d'uomo col bastone è un tipo nobiliare ha una sua grazia quindi ha il bastone come quel condottivo militare quindi è lui alla fine a livello razionale puoi avere anche una cultura eccelsa ma non è un gran ragionamento se fai ti accadici su confronti formali o tipologici perché come abbiamo detto non hai nessun riscontro in realtà possono essere chiunque questo uomo o questa donna adesso vi faccio un esempio di come dell'interpretazione che dà Marco Poli e vedrete che sono dei grandi voli pindarici Marco Poli cosa ci dice è un libro utilissimo compratelo la tempesta svelata perché per il 50% ci fa fuori le interpretazioni quelle 42 interpretazioni precedenti e mi ha fatto capire che sono tutte accomunate da questi tre modi secondo me non coerenti di ragionare poi Marco Poli ci dice guardate questa questa parete qua è storta non è solo un edificio rovinato è una parete se uno fa un esame geometrico storta quindi è il richiamo del terremoto di Costantinopoli del 1509 c'è stato un terremoto di Costantinopoli del 1509 andiamo avanti cosa dice Marco Poli siccome Costantinopoli l'allegoria della città è ancora pagana anche se è affondata Costantino che era cristiana come tutte le città e Costantino lasciò la monetazione l'allegoria delle città la lupa per Roma questa è l'allegoria di Costantinopoli cioè Iside anche qua inizia a fare un altro passaggio non ben dimostrato perché in realtà Costantinopoli viene raffigurata sulle monete come una donna ma perché Iside uno potrebbe dire l'allegoria della città che domina sul mare come poi Venezia che fa le nozze col mare poi cosa dice qua c'è uno stemma che vedremo dopo è un carro quindi è la famiglia da Carrara di Padova quindi questo fulmine sono le artiglierie di Massimiliano d'Asburgo che bombarda Padova in effetti nel 1509 c'era l'allegante Venezia Venezia era così potente faceva così paura avevano paura che diventasse il secondo imperio bizantino il terzo imperio romano che invece di aiutarla a combattere contro i turchi e Venezia ci stava difendendo tutta l'Europa dai turchi dobbiamo ringraziare ancora adesso gli facevano guerra tutti il papa gli imperatori i francesi si alleavano addirittura Ludovico il Moro diceva ai turchi attaccate Venezia attaccate sennò magari invade Milano è così gloriosa Venezia potente che tutti si alleavano in quel momento all'inizio del 1500 contro Venezia e allora non è male questa idea di Marco Poli infatti io l'adotto cioè io adotto quest'idea che si do una lettura politica come lui ma io la do in senso antiturco e non antiesburgico perché il pericolo per Venezia non era l'imperatore Massimiliano che poteva pure prendergli Padova chi se ne frega aveva tutto i friuli e il Veneto ma poi la grandezza di Venezia erano le isole la Grecia aveva basi fino in Crimea il pericolo di Venezia erano i turchi lo vedremo fra poco però in quello che secondo me è una grande pulp fiction perché Marco Poli mette un gran calderone non fa una interpretazione fa un uso interpretativo dell'opera e fa vedere quanto è figo quante cose sa ci mette un bel romanzo perché ditemi cosa c'entra il terremoto di Costantinopoli con Iside quindi se questa Iside questo è Apuleio l'asino d'oro con Iside però qui c'è il lampo qui c'è lo sterma di Padova quindi è anche l'allegoria della dramma di Venezia attaccata all'imperatore Massimiliano ma perché? cioè deve esserci un'identità dominante dell'opera non puoi metterci tre o quattro classi di significato insieme lei ce ne aggiunge una quinta perché ci dice che questo qua è Cristoforo Marcello chi è costui? Carnea di chi è costui? Cristoforo Marcello perché Giorgione fa un ritratto a suo parente mi sembra suo fratello Gerolamo Marcello che quindi è committente di Giorgione guardate bene questo uomo quello della tempesta ha un colorito di pelle scuro che è un segno della malinconia come sdegno e ha una mantellina rossa e ha un lungo bastone ora vediamo il ritratto di Giorgione a Gerolamo Marcello c'è una vaga somiglianza ma in realtà secondo me non c'entra assolutamente nulla è un salto logico che fa Marco Poli ma ecco ecco questo Giorolamo Marcello che commissiona a Giorgione il suo ritratto chi era? era un condottiero militare figlio di Jacopo Marcello eroe contro i turchi perché riconquista Gallipoli nel 1484 dopo che i turchi avevano conquistato Otranto il papa poco fa e abbia attificato i martiri di Otranto quindi si era in pieno conflitto restò ovest allora e il papà di questo Jacopo Marcello riconquista Gallipoli questo invece Gerolamo Marcello combatte la battaglia di Padova l'assedio delle truppe imperiali di Massimiliano I contro Padova che questo personaggio abbia un'alabarda quindi uno strumento lungo che è lungo come l'asta dell'uomo della tempesta un colorito un po' bruno e un vestito rosso secondo me non significa assolutamente nulla ma non perché voglio criticare per forza Marco Poli vorrei che avesse ragione così risolviamo molte cose invece no innanzitutto cosa c'entra un riferimento cosa c'entra Cristoforo Marcello Cristoforo Marcello era una figura di poco conto se tu dai una lettura politica alla tempesta e coinvolgi dei temi così grandi e importanti per Venezia allora il comitente deve essere uno importante Cristoforo Marcello è una figura di secondo piano diventa proto-nortaro apostolico quindi una figura un po' fra il dotto e l'ambasciatore presso Giulio II in epoca tarda si occupa di letteratura non di politica io ho fatto una breve ricerca su internet ma non mi vergogno di usare internet perché se uno lo sa usare bene con calma trova molto e figure che possono essere l'uomo della tempesta di Giorgione molto più importanti politicamente e militarmente di Gerolamo Marcello o di Cristoforo Marcello ne trovate in Maria Antonio Bon politico militare ricordato da Guicciardini la famiglia Ghisi Andrea Foscolo tutti condottieri o politici o diplomatici per Venezia contro i turchi o ambasciatori Antonio Grimani Niccolò Zorzi Giovanni Emo per quindi questo Cristoforo Marcello è semplicemente un'idea che è venuta a Marco Poli perché condivide con questo con suo fratello ritratto da Giorgione un vestito rosso che è il più diffuso per le figure nobili non solo militari rosso un'arma ma questo è un condottiero militare ovvio che è un'arma è un colorito un po' scuro perché non dimostra nulla perché Marco Poli che non è uno storico dell'arte non sono neanche io però ha ragionato poco sul linguaggio non considera che gli artisti soprattutto i grandi artisti come Giorgione si autocitavano cioè questo può essere uno stilema innanzitutto non sappiamo se la tempesta è prima di questo quadro e quindi è la tempesta che ha influenzato questo o dopo perché non sapendo la data della tempesta come fai confrontare la tempesta con questo secondo può essere uno stilema cioè l'artista come anche adesso cioè Renzopiano non è che ogni giorno si inventa una cosa nuova riprende una cosa magari che è fatto tre anni fa se la riprende quindi il grande artista proprio perché è grande se gli è venuto bene una forma un'espressione un colore un attributo lo riprende per un altro personaggio che può anche vagamente assomigliare se non ci assomiglia neanche ma non c'entra nulla perché cambia il contesto questo è un normale ritratto di un condottiero militare va bene che non c'entra totalmente nulla con il contesto della tempesta dove non abbiamo nessun riferimento diretto militare e abbiamo un uomo che in realtà è molto diverso perché non sappiamo cosa fa è un uomo molto diverso e subordinare tutto il racconto a quello stema di Dakarara mi sembra un po' una forzatura e soprattutto cosa c'entra col terremoto di Costantinopoli cosa c'entra con Isid e cosa c'entra con Apulevi cioè o è un quadro filosofico o è un quadro onirico o è un quadro realista cioè non è che può essere tutto fare un miscuglione di tre o quattro interpretazioni quindi io ho lasciato stare Marco Poli ho detto allora andiamo avanti forse ho ragione io ad escludere completamente il linguaggio religioso questo per me non è un quadro religioso non è un quadro mitologico e non è un quadro letterario perché se io voglio fare un riferimento mitologico religioso letterario mi faccio capire mando dei segnali tiro fuori un allegoria poi posso non capirla ma ti faccio perché l'allegoria anche il linguaggio nascosto è comunque uno strumento di comunicazione se io nascondo così tanto il riferimento che è invisibile cioè allora ho fallito sono un folle vanifico la cosa qui siamo all'inizio del cinquecento quindi il messaggio deve arrivare qui è creptato ma secondo me non è questi tre linguaggi che linguaggio rimane per questo sono partito dalla mia ignoranza quello politico quello oggi diciamo politico cioè questa opera secondo me parla e in questo ha ragione in parte Marco Poli ma io lo analizzo con esiti completamente diversi ci parla secondo me questa angoscia questa sofferenza queste contraddizioni interne questa inquietudine che sentiamo che alleggia ci parla di un qualcosa che riguarda la storia di Venezia perché l'ipotesi più probabile comunque sia condivisa da tutti che lui gravita attorno a Venezia a Giorgione quindi committente sia un veneziano un nobile veneziano secondo me è un nobile che ha un ruolo politico importante rimane il linguaggio politico quindi sono andato a vedermi sono andato cosa ho fatto mentre studiavo la struttura le relazioni interne all'opera andavo a vedere ho fatto un breve ripasso che non mi ricordavo della storia di Venezia inizio 500 ed è una storia interessante perché come vi dicevo Venezia è completamente accerchiata perché ha l'impero turco che avanza e ogni giorno Venezia perde dei possedimenti ad esempio nel 1499 perde la maggior parte della Grecia prima possediva tutta la Grecia e i greci avanzano addirittura nel 1499 lo stesso anno in cui perde la Grecia i turchi fanno una scoreria in Friuli cioè arrivano addirittura in Friuli nello stesso tempo Venezia ha grossi problemi col Papa Alessandro VI il famigerato Papa Borgia perché invece di lanciare una nuova crociata come verrà Venezia come farà poi San Pio V nel 1571 di qui la vittoria di Lepanto Venezia insieme con l'imperatore d'Asburgo i francesi quindi tre soggetti completamente diversi da loro però sono uniti nell'andare contro Venezia questa è una cosa strana che accade allora però evidentemente temevano era così forte anche l'esercito di terra probabilmente veneziano era così grande la ricchezza economica di Venezia che la temevano molto quindi è interessante confrontare la struttura di quest'opera con il periodo storico abbiamo poi due cose abbiamo una cosa che ci incoraggia nella lettura politica che abbiamo due stemmi araldici adesso li vedremo fra poco qua qui si vede poco perché non è ingrandito qui in mezzo c'è il leone di San Marco e qua c'è lo stemma di Dakarara lo stemma araldico adesso può essere una curiosità culturale allora è a politica è un chiaro segno di potere qui abbiamo un leone di San Marco è un altro stemma che potrebbe essere la famiglia Dakarara qui ci vorrebbe qualche araldista che lo studi e non è stato fatto fino adesso è un po' più difficile capire il suo stemma del Caro che può essere Dakarara da Padua però siccome il leone di San Marco lì non c'è dubbio quindi io mi sono sentito incoraggiato ad andare avanti nella lettura politica non solo per esclusione ma perché abbiamo dei riferimenti c'è almeno uno certissimo stemma araldico che ci dice Venezia come stato come potere non è che viene messo così a caso tant'è che non capiamo che paesaggio c'è sul fondo è molto composito ibrido però c'è il leone di Venezia prima di andare avanti e vi faccio vedere cosa ho trovato per confermare la tesi politica vi dimostro un'altra cosa cioè come sia facile che ci siano delle somiglianze morfologiche ma con significato completamente diverso se vogliamo vedere le somiglianze allora l'uomo della tempesta somiglia più a questo che a Geronimo Marcello perché è molto simile la postura questo è sempre Giorgione la palla di Castelfranco è San Liberale un santo il santo appunto protettore di Castelfranco vedete com'è simile nella postura e a questa lunga asta qua non c'è la bandiera ma semplicemente qua è cambiato fra destra e sinistra rispetto alla tempesta ma questo è un soggetto religioso a me non interessa nulla che è simile come e ovviamente Giorgione si autocita ma cambiando il contesto io come faccio a dire chi è l'uomo della tempesta non è certo San Liberale qui lo è perché è vicino a una Madonna che è al centro c'è la bandiera con la croce è armato e qui chiaramente è un santo e sappiamo che il committente è stato fatto per quello allora torniamo alla tempesta e ci avviciniamo alla chiave di volta adesso quindi io cosa ho fatto ho cercato ho passato millimetro per millimetro il dipinto scusate che adesso non la trovo più eccolo qua sul paesaggio mi sono concentrato sul paesaggio alla ricerca di indizi di una lettura politica mi hanno detto sì io devo cercare quindi un qualcosa che mi confermi questa ipotesi cioè che è un quadro che ci parla degli eventi storici che accadevano contemporaneamente quando l'ha realizzato quindi inizio 500 possiamo fare tendenzialmente dal 1499 ultimissimi anni a quando muore Giorgione che è nel 1510 abbiamo visto il clima drammatico conflittuale veramente da tempesta quindi è stato facile collegare il tempo climatico come facile allusione al tempo politico anche oggi guardate il programma di Fazio che tempo che fa è iniziato col pretesto del tempo di cosa ci parla il programma di Fazio di politica o comunque di come sta andando il mondo anche adesso quando parliamo soprattutto i nostri nonni in campagna quando guardavano il cielo si commentavano il tempo più o meno come adesso facciamo noi ma rosso di sera bel tempo si spera cioè è chiaro che i segni del cielo immediatamente fin dalla preistoria alludono a un'indicazione di come va il mondo di come va la nostra vita quindi il fatto che c'è che il tema l'unico tema che si capisce di quest'opera è una minaccia di tempesta e per esclusione stiamo cercando degli elementi che confermino l'ipotesi di un quadro politico è evidente che allora forse si capisce anche meglio questa drammaticità climatica perché Venezia era cerchiata aveva nemici sulla terraferma che avrebbero dovuto essere invece amici perché lei in realtà non aveva una grande politica espansiva sul territorio ma più oltre sulle isole sul mare e un nemico terribile che minacciava non solo Venezia ma tutto l'occidente che ha questo imperialismo questa politica di conquista a tappe forzate sia con le navi che con la terra che era l'impero turco tant'è che conquista Otranto la tiene per qualche anno la Puglia e arriva in Friuli e allora qua arrivo finisco di dirvi un'ultima cosa perché non sono Adamo e Deva beh qui ormai avendo fatto un po' attenzione alla struttura è evidente che non possono essere Adamo e Deva perché sono divisi e sono vestiti in modo diverso Adamo e Deva in tutta l'arte di duemila anni sono anche più di duemila anni anche dal livello ebraico non c'è una raffigurazione facciamo duemila anni e sono l'archetipo della coppia uniti nella grazia e uniti nel peccato quindi le caratteristiche essenziali della raffigurazione di Adamo e Deva che sono vicini e sono vestiti uguali perché anche il nudo è un vestito o sono tutti e nudi o sono tutti e due semi vestiti o sono tutti e due vestiti qui sono divisi e vestiti diversi quindi non possono essere Adamo e Deva quindi io andando a cercare nel paesaggio degli elementi allusivi o delle citazioni o delle criptazioni dei linguaggi immediati quindi politici ho trovato la chiave di volta la classica chiave di volta che è una citazione fotografica ora ve la mostro subito cioè un elemento che Giorgione ha dipinto e come era allora nel 500 e anche molto prima e adesso ed è quello la chiave di volta del significato politico generale dell'opera ed è quasi facilissimo se uno ha fatto questo ragionamento di premessa e guarda una bella immagine ingrandita eppure anche gli interpreti esoterici non hanno visto non hanno interpretato questa cosa che vi faccio vedere che va interpretata letteralmente perché è un edificio che c'è anche adesso uguale identico eccolo qua qualcuno che è un po' più allenato o ha fatto un po' qualche viaggio o è un po' più curioso forse l'ha già riconosciuto guardiamo comunque la struttura non diamo nulla per scontato potrebbe essere non diciamo ancora cos'è anche se evidente abbiamo un edificio cubico un edificio cubico e una calotta sferica sopra hanno detto che la chiesa di Sant'Antonio a Padova hanno detto di tutto io non dico nulla io dico che questa cosa qua quando l'ho vista in questo libro che mi hanno spedito per caso a mio ufficio questa casa editrice della bozzetto editore sono rimasto folgorato ma questo è evidente cos'è perché sembra una fotografica allora non c'era la fotografia ma l'ha dipinto vogliamo andare a vedere le fotografie di questo edificio oggi che non sono cambiate cerco di fare più veloce possibile ma l'avete già evidentemente capito voilà Gerusalemme il duomo della roccia sulla spianata del tempio tecnicamente questo cioè quello che rimane quello che è stato costruito in tempi molto antichi sopra quello che rimane del tempio di Gerusalemme luogo sacro per le tre religioni innanzitutto per Israele perché è il luogo dove nasce Adamo e dove Abramo sacrifica Isacco e soprattutto dove c'era il tempio che era il cuore della vita di Israele tutti i tre templi qua sacro per il cristianesimo perché ovviamente poi il cristianesimo porta avanti la tradizione ebraica qua arrivano poi i templari e lo riprendono con le scuderie di Salomone sotto ancora adesso il luogo conteso qua ci fu l'intifada negli anni Ottanta perché perché lo Stato israeli iniziava a fare scavi archeologici sotto e l'Islam e i palestini dicevano no e anche zona sacra nostra perché questa è la moschea di Omar cioè una delle più antiche prestigiose moschee secondo poi una tradizione popolare apocrifa marometto salì al cielo partendo da qua possiamo vedere più vediamo foto di questo edificio avvicinandosi vediamo che c'è il cubo e c'è e c'è la sfera vediamo solo un'altra foto perché non possiamo stare troppo su questo qui un po' più ravvicinata quindi per me questa è la chiave di volta perché ci dice che il significato quindi politico la minaccia di tempesta di cui ci parla il quadro di Giorgione è la tempesta che sta scatenando l'impero turco la tempesta che si sta avvicinando è questa ovviamente non mi accontento voglio vedere se ci sono delle altre conferme ne ho trovate altre due anche qua l'allusione cos'è l'allusione questa è una citazione però messa sullo sfondo l'allusione è come linguaggio subliminale cioè io ti dico una cosa però te la velo leggermente te la dico sottovoce te la metto insieme a altri dimenti che ti distraggono e tu non la vedi subito però se è un destinatario politico se è un destinatario preciso allenato riconosce questo quadro è piccolo perché può essere facilmente trasportabile è una lettera diplomatica in figura cioè vi riassumo subito la conclusione Venezia si lamenta col Papa della sua politica anti-veneziana e dice guardate qua il pericolo per tutti sono i turchi che minacciano tutti e quindi è un grido di aiuto di Venezia all'Occidente in funzione anti-turch quali sono gli altri due elementi anche qua subliminali allusivi che ho trovato di conferma anche qua con gli ingrandimenti è stato facile ma ve lo faccio vedere con questo puntatore vedete qua sembra fatto col compasso è una mezzaluna c'è una dialettica fra la luce che esce da dietro la nuvola della luna e il contorno della nuvola stessa che è la stessa di questo strano albero anzi sono due alberi qui abbiamo già una mezzaluna che incrociando con l'altro albero diventa la mezzaluna ancora più precisa che è quella inclinata e quasi completa che c'è sopra le moschee la mezzaluna aveva un significato politico molto preciso perché da pochi anni era caduta Costantinopoli in mano dei turchi da 60 anni perché era caduta nel maggio del 1453 e perché da allora l'islam in questo caso i turchi e poi tutto l'islam usa la mezzaluna è un simbolo occidentale la mezzaluna era semplicemente le tre mezzalune il simbolo araldico del papa Pio II Enea Silvio Piccolomini che aveva una croce con le mezzalune siccome c'è stato il concilio di Firenze pochi anni prima dove gli ortodossi rientrano nel cattolicesimo questa insegna del papa era esposta sulle mura sugli spalti di Costantinopoli poi l'occidente egoista diviso menefreghista non ha aiutato l'imperatore di Bisanzio come aveva promesso l'ha abbandonato il suo destino i turchi conquistando Costantinopoli fanno come facevano tutti gli antichi io prendo l'insegna del nemico e la faccio mia e quindi è diventata la mezzaluna il simbolo del nemico quando era prima il simbolo dell'amico quindi è molto interessante che oltre al tempio di Gerusalemme abbiamo i segni della minaccia che incombono sul tempio ma Gerusalemme è dai tempi delle crociate che non è più cristiana è vero però nella logica simbolica teologica allegorica con cui la stessa politica veniva vissuta e raccontata qual è la nuova Gerusalemme dai tempi di Pietro e Paolo a Roma? persa la nuova Roma che era Costantinopoli quindi abbiamo perso Gerusalemme con le crociate fallite abbiamo perso 60 anni fa sto parlando come fosse un contemporaneo di Giorgione abbiamo perso 60 anni fa Costantinopoli rimane la prima Roma che è la nuova Gerusalemme perché il cristianesimo con San Paolo e San Pietro si sposta nel suo baricentro dall'Oriente Greco all'Occidente Latino da Gerusalemme a Roma e tanto più che questa mezzaluna era prima del Papa e adesso è dei Turchi quindi un fulmine una luna all'usa in cielo il tempio di Gerusalemme un'alta mezzaluna all'usa questo albero mosso dall'aria e dal vento sta dicendo il Venezia al Papa guarda che amminaccia Turca noi guarda Solomé e guarda direttamente te tant'è che le incursioni sulle coste si stanno avvicinando anche a Roma e poi allora sono andato avanti vediamo se questa è solo una traccia casuale o se c'è qualche altro elemento perché se la lettura politica magari in questo strano sfondo che non è nessuna città riconoscibile ma sembra una cozzaglia di edifici uno diverso dall'altro magari c'è qualche altro allusione o citazione negli edifici che sono fondamentali e allora guardando gli ingrandimenti sempre ho trovato qualche altra cosa che è meno è meno certa di questa chiave di volta però ho trovato altre due cose molto interessanti ho trovato l'edificio dove c'è il leone di San Marco che è un edificio strano ma anche questo mi ricordava qualcosa eccolo qua vedete questo è il leone di San Marco su questo non c'è dubbio insomma basta poi vederlo ancora più ingrandito e questo strano edificio questo parallelo epipedo che è un elemento triangolare al centro e ha questa forma particolare ma io questo l'ho già visto da qualche parte magari non identico magari allora ho provato a vedere questo ovviamente ripeto è un elemento che adesso vi mostro di raffronto è meno certo rispetto alla la moschiera di Omar il Duomo della Roccia che è identico però è una pista esile ma che sono andato avanti e secondo me è questo è il disegno originale del tempio perché non lo fa vedere ah perché devo fare così è il disegno originale del tempio malatestiano di Rimini questo parallelo epipedo con un elemento triangolare centrale qua c'è il leone di San Marco nella tempesta assomiglia molto al disegno originale che è rimasto incompiuto il tempio malatestiano di Rimini un parallelo epipedo col triangolo allora cosa si complica allora sono andato a confrontare con la storia di Venezia di quegli anni come l'ho confrontata riguardo alla minaccia turca ma può centrare Rimini in questo discorso perché o è solo i turchi e questo boh mi hanno fatto a caso in realtà c'entra perché abbiamo un altro pericolo che viene da Venezia un po' meno grave ma altrettanto inquietante viene dalla terraferma Cesare Borgia il figlio di quello che poi diventa Papa Alessandro VI che sfugge al controllo del già potentissimo genitore e si crea un suo regno un suo ducato nell'Italia centrale che ha tutta una serie di staterelli adesso noi fa ridere da Pesaro Senigallia sono due chilometri ma allora non era facile al di là delle vie di comunicazione difficili perché erano tanti piccoli stati che Cesare Borgia spazza via in pochi anni e rimarranno poi stato della chiesa fino al risorgimento quindi cosa fa Cesare Borgia conquista Rubino conquista Rimini conquista Piombino Senigallia Cesena e si crea un suo regno appunto fra Marche Emilia Umbria e Toscana ma cosa c'entra Rimini con Venezia perché qua la mia tesi c'è un leone di San Marco sul tempio malatestiano di Rimini c'entra c'entra moltissimo perché Rimini era un protettorato di Venezia e era governata dai malatesta che combattevano il soldo di Venezia Rimini si sviluppa in epoca tarda dal 300 in poi ma a che regione appartiene a che micro regione appartiene all'esarcato di Ravenna che è sempre stato bizantino e a livello simbolico ma anche culturale e politico Venezia è l'erede di Bisanzio tant'è che il beretto del Doge è identico ai governatori di Bisanzio che erano sparsi nelle varie province poi perde il senso religioso Ravenna si sviluppa più Rimini come potenza politica ma sempre nell'orbita di Venezia tant'è che Pandolfo malatesta a pochi anni fino ai 400 combatte in Grecia per i veneziani quindi chiaramente Cesare Borgia che spazza via Rimini e Cesena che era sempre di mala testa dà fastidio a Venezia perché gli toglie un alleato gli toglie un protettorato importante in una zona strategica fra Romagna e Marche poi sono andato avanti e ho trovato un'altra cosa stranissima qua un po' più difficile da inquadrare politicamente ma è possibile che però deve procedere le domande un altro edificio molto strano ecco questa chiesa anche questa ma questa l'ho già vista anch'io qua è un po' più difficile perché c'è molte chiese triangolari però vedete che ha due ha due torri ha una notevole struttura dimensione e ha questa facciata capanna molto spiovente molto a larghe falde e allora ho fatto un altro confronto non è un elemento fondamentale per la mia tesi politica però Sant'Ambrogio di Milano ecco cosa c'entra Milano? poteva c'entrare anche Milano perché se il messaggio doveva essere globale cioè Venezia chiede aiuto contro i turchi e si lamenta che il Papa invece di aiutarla lascia fare a Cesare Borgia che gli spazza via indebolisce Venezia c'è anche il problema dei francesi che fanno fuori Ludovico il Moro e qui potrebbe essere anche una citazione beffarda vedete Ludovico il Moro chiamava i turchi contro di noi adesso è fatto fuori dai francesi tenta ancora nel 1500 di ritornare a Milano ma poi viene catturato e muore il prigioniero ora torniamo alla nostra tempesta no sono già qua sono già qua sotto lo stemma di Dakarara che adesso vi mostro in effetti crea un po' più di problemi e la parte lo confesso la parte è un po' più debole che riesco a spiegare meno però è anch'esso in parte spiegabile comunque fa parte di una sezione del quadro che va comunque analizzata non è stata mai analizzata abbastanza perché è estremamente interessante eccolo qua qui si vede male ma vedi questa è una ruota di un carro una ruota di un carro sono quattro ruote di un carro alla fine del 400 la famiglia Dakarara rivendica ancora Padova che era stata persa anni prima da Porta di Venezia quindi potrebbe essere un'allusione non riprovateci con Padova ormai veneziana perché sopra è semidistrutto il tetto quindi può voler dire ma noi li abbiamo già sconfitti Dakarara è un po' più difficile ricomprendere questo elemento negli altri che fra di loro sono più coerenti però abbiamo altri due elementi interessantissimi quella che secondo me è una cicogna più che un ibis e una cometa stranamente moltissima la maggior parte degli studiosi non si è accorto che c'è una cometa beh insomma non è un significato è difficile capire nel senso ma non è non si può fare finta che non ci sia hanno parlato di stella Sirio qua c'è poco da fare se è ingrandita abbiamo un punto luminoso chiaro e delle righe dorate proprio come erano le comete già nei quadri del 300 quindi qui non c'è proprio non c'è proprio dubbio che sia una cometa io ho provato a scervellarmi qualcosa ho individuato qui è difficile ma interessante a cosa si lega la cometa? si lega alle colonne spezzate ad esempio la cometa è o è o ci parla veramente del passaggio di una cometa e ci aiuta a datare il quadro ma non è possibile perché dai documenti almeno che abbiamo fino ad oggi c'è stata una cometa nel 1476 e poi c'è stata nel 1532 quindi troppo prima e troppo tardi quindi non ci aiuta a datare se non è una cometa vera la cometa è quando passa a Natale è un segno apocalittico di solito portava male riteneva per l'epoca comunque è un segno di minaccia come il fulmine di giudizio dal basilico di San Francesco ad Assisi nel dipinto di Gesù arrestato nell'otto legge di Semani c'è una cometa quindi un segno di dramma di drammatizzazione di Apocalisse l'unico riferimento che ho trovato stoico potrebbe essere un'allusione ma forse diventa troppo fine però l'unico collegamento è con una battaglia che è accaduta il 24 dicembre 1499 ed è stata l'unica battaglia di quel periodo vinta dai veneziani insieme con gli spagnoli l'assedio di Cefalonia hanno perso la Grecia i turchi risalgono prendono Cefalonia ma viene riconquistata dagli spagnoli insieme con i veneziani ci sono due condottieri spagnoli adesso non mi ricordo il nome ma ve lo dico che insieme con i veneziani ecco Pietro Navarro e Consalvo da Cordoba che il 24 dicembre quindi la cometa ci sta 1499 minando la rocca di Cefalonia la riconquistano ed è l'unico quindi il messaggio potrebbe esserci perché Venezia dite guardate che se ci alleiamo divinciamo i turchi non sappiamo se è un'allusione di questo tipo certamente una cometa così che non è una cometa vera fisica può essere collegata al Natale perché? perché abbiamo un altro elemento che ci collega al Natale la colonna spezzata la colonna spezzata è anche questo un mistero a sua volta ma è sempre stata collegata all'infanzia di Gesù nel Natale c'è ancora adesso nei presepi napoletani perché fa riferimento ai Vangeli apocrifi che ci dicono che Gesù quando nasce crollano gli idoli soprattutto quando Gesù bambino appena nato scappano in Egitto entrando in Egitto ci dice il Vangelo apocrifico di Giacomo e altri testi apocrifi cioè che non sa bene chi li ha scritti e non sono inseriti nel canone della chiesa però sono tradizioni antichissime orali poi scritte che quando Gesù bambino con la famiglia fuggono in Egitto e entrano in Egitto crollano tutti gli idoli i templi per cui è spezzata la colonna è una rovina interessante anche qua c'è un dialogo strutturale interessante un fulmine e una colonna spezzata una cometa e una colonna spezzata clima natalizio o apocalittico comunque elementi che non sono stati abbastanza studiati e vanno studiati la cicogna lo sappiamo tutti cosa significa allora come adesso significa attesa ma siccome aveva poi significati anche alchemici ad un significato più profondo la cicogna negli eroglifici di Orapollo un testo di alcuni sono proprio geoglifici che compare misteriosamente alla corte di Cosimo dei Medici portato da un mercante è un successo incredibile influenza anche due a Leonardo la cicogna indica la pietà figliale comunque a livello strutturale una cicogna qua che aspetta bianca e una donna qua che ti guarda e sembra aspettare qualcosa con una mantellina bianca può esserci un rapporto può esserci un parallelismo simbolico strutturale e adesso arriviamo alla donna perché io adesso il contesto mi sembra davvero ricostruito un contesto politico la minaccia di tempesta è quella turca Venezia è in crisi e la donna ho fatto una ricerca anche qua piano piano ho fatto una ricerca che sembra la ricerca di un ago nel pagliaio e in realtà sono stato anche un po' fortunato di trovare grazie a Treccani ho trovato il dissenario biografico però in realtà era già abbastanza ristretta l'ambito da cercare perché doveva essere un personaggio storico e nessuno tutti hanno detto una figura allegorica no abbiamo visto la psicologia del viso molto precisa questo è un personaggio storico secondo me la donna allora dobbiamo trovare un nome e un cognome un personaggio storico collegato a Venezia che abbia a che fare con Rimini che abbia a che fare direttamente con i turchi e anche con Roma è già un qualcosa non è proprio una ricerca di un ago nel pagliaio magari non c'è io ho iniziato a cercarlo così proviamo a vedere se a fine 400 e inizio 500 ci può essere un personaggio storico che ha subito un dramma una donna che è probabilmente una nobile donna altrimenti non è che mettono le popolane nei quadri a inizio 500 è così il sistema che subisce una sofferenza ha un dramma personale che però ha delle implicazioni politiche che può diventare un'allegoria politica o comunque quello che io chiamo un'apocalisse politica ma anche privata vediamo se c'è allora ho cercato ho visto un po' e penso di averla trovata e vi dico il nome e il cognome è una storia bellissima sembra un romanzo ma è una storia vera viene citata da è collegata con i Borgia questa storia viene citata da Antonio Spinosa nel suo libro sui Borgia figura non moltissimo studiata ma ci sono i documenti storici ci sono degli studi dagli anni 20 agli anni 60 poi è stata un po' dimenticata e secondo me la donna della tempesta di Giorgio si chiama Dorotea Malatesta e vi spiego perché Dorotea Malatesta che era figlia naturale di Roberto Malatesta come vi dicevo i Malatesta erano alleati di Venezia che dominavano su Rimini da secoli su Rimini e su Cesena e su quella zona lì e Malatesta combattono poi i turchi per conto di Venezia come Pandolfo Malatesta e anche Roberto Malatesta Dorotea Malatesta la figlia di Roberto Malatesta vive la corte di Gonzaga di Elisabetta Gonzaga quando Elisabetta Gonzaga sposa l'ultimo duca di Urbino si trasferisce come la sua preferita dama di compagnia ad Urbino ed è considerata la dama più bella dell'epoca nel 1499 a 20 anni quindi la sua storia cosa succede perché arriva ad un certo punto un dramma un giallo un mistero nella sua storia che secondo me è all'uso qui ne parla questo quadro perché si incrocia con un problema politico perché lei poi Elisabetta Gonzaga vuole sposarla farla sposare bene e si sposa per procura con Giovanni Battista Caracciolo un nobile di Napoli questa è storia un nobile di Napoli un condottiero militare importante combatte per il re di Napoli combatte per il Papa salvando il papato dai francesi e poi per il duca di Urbino e diventa nel 1500 pochi mesi dopo che ha sposato per procura quindi l'ha vista una volta poi sono sposati ma non hanno mai consumato il matrimonio nel 1500 diventa capitano generale della fanteria della serenissima Repubblica di Venezia quindi una carica molto importante e viene subito mandato in Friuli a gradisca a difendere dall'invasione dei turchi tant'è che lui nel dicembre del 1500 si lamenta ma fatemi andare almeno a concludere il matrimonio come va concluso perché il diritto canonico di allora come adesso se non consumi non è del tutto matrimonio quindi ancora promessa era sposata ma c'è una componente di promessa sposa tant'è che ha il velo la nostra donna invece la Repubblica di Venezia è inflessibile perché allora la disciplina non sgarava c'era un pericolo alle porte di Venezia e rimane sul fronte del Friuli finalmente nella primavera nei primi mesi nel febbraio del 1501 si accordano per cui Dorotea Malatesta parte con una scorta armata da Rubino e deve andare semplicemente a Venezia a incontrare il suo sposo che avrà tenuto una licenza da gradisca e scende a Venezia qual era il problema che per raggiungere Venezia doveva attraversare il territorio della Romagna che era dominato da quel cinico spregiudicato però anche un genio militare che era Cesare Borgia tant'è che gli danno una scorta armata purtroppo non basta il 13 febbraio 1501 sparisce Dorotea Malatesta non raggiunge Venezia fra Cervia e porto Cesenatico sparisce il podestà di Cervia comunica subito a Venezia il problema e tutti i contemporanei danno subito la colpa a Cesare Borgia che la scarica su Diego Ramirez che era uno dei suoi comandanti spagnoli dice no ma è stato Diego Ramirez è innamorato l'ha vista si è infatuato e non sappiamo più dov'è Diego Ramirez capite che qua abbiamo un dramma personale ma che è un dramma politico Venezia viene offesa la moglie del capitano della sua fanteria viene sequestrata era una donna bella affascinante e viene sequestrata e siccome quei territori erano dittatorialmente controllati da Cesare Borgia nessuno ha dubbi tant'è che addirittura la Repubblica di Venezia scrive al Papa Giovanni Battista Caracciolo disperato scrive ai due cardinali abbiamo un'ambasceria della Serenissima che va da Cesare Borgia insieme con l'ambasciatore del Papa e francese e col segretario Alvise Manenti segretario del Consiglio della Repubblica di Venezia per cercare di farlo ragionare lui ovviamente da persona spregiudicata e cinica nega tutto nega tutto scaica la colpa su questo capitano spagnolo di cui si perdono le tracce e pochi mesi dopo questa persona spregiudicata che Cesare Borgia sparge la voce che sia morta e Venezia quindi c'è un travaglio personale familiare e politico perché Venezia non può passare sopra questa offesa però non può neanche esagerare troppo con il Papa perché sta ancora lavorandolo ai fianchi per farlo riportare nell'alleanza che è nell'ordine delle cose tant'è che poi settant'anni dopo a Lepanto c'è l'alleanza benedetta da Papa fra spagnoli austriaci e veneziani contro i turchi infatti riescono a vincere è una storia incredibile che fece scalpore in tutte le corti italiane anche fuori dall'Italia cosa succede poi non si sa con precisione probabilmente fu tenuta prigioniera a Imola in quelle zone lì e dopo trasferita al Castel Sant'Angelo insieme a Sancia d'Aragona l'altra cosa certa è che nel dicembre 1503 ricompare l'ambasciatore veneziano a Roma attesta che ha incontrato Dorotea Malatesta la quale addirittura chiede garanzie per la propria incolumità perché ha paura di una possibile vendetta del marito e invece anche qua secondo caso strano perché la vita supera sempre il romanzo c'è un lieto fine nel senso che finalmente nel febbraio 1504 Dorotea Malatesta rincontra il suo marito a Farenza si consuma il matrimonio avranno addirittura quattro figli pochi anni dopo verrà ucciso a Verona da un parente napoletano che non so per quale torto assassinerà Gian Battista Caracciolo e lei poi andrà a vivere a Napoli per qualche anno però per questi tre anni abbiamo un dramma personale che diventa un incidente diplomatico internazionale perché siamo in Italia ma erano stati diversi all'interno già che quindi getta olio sul fuoco di una sofferenza di Venezia veramente perché è attaccata da terra e dal mare da ovest da occidente e da oriente questa adesso imbevo un bicchiere d'acqua e la tesi politica adesso finisco un quarto d'ora sugli aspetti alchemici grazie Giacomo se ci sono domande se qualcuno del pubblico interessa a fare delle domande passo io questa volta con il microfono c'è qualcuno che vuole fare domande a Giacomo arrivo prima credo di aver trovato qualche anno fa in una ricerca che ho fatto per la cappella con leoni il un qualcosa di che sia tanto vicino glielo passo così se lo volete far vedere e mi è sembrato dato che ho letto l'altro ieri l'invito che mi ha mandato il facebook e devo dire che ho trovato tanta somiglianza e l'altra cosa era questa in un lavoro di pulizia che è stato fatto nel restauro una quindicina di anni fa la figura maschile era in realtà eccola lì vedete da una parte la donna col bambino dall'altra l'uomo con l'asta e questa si trova sulla facciata della cappella con leoni un'opera che è stata realizzata dalla Madei 30 anni prima esattamente nel 1476 quindi devo dire Giorgione conosceva intanto era veneziana Bergamo e quindi poteva esserci e trovo proprio tantissimo ecco perché è stata anche data una spiegazione della metafora cristiana la figura centrale il dio che diciamo così condanna l'umanità ecco perché il temporale poteva essere questa metafora della cristianità e l'altra ecco perché Giorgione pone in un primo tempo la figura nuda femminile al posto dell'uomo grazie grazie un'altra domanda sì l'avevo l'avevo vista quell'opera qui bisogna fare delle scelte di campo per quello ti dico il ragionamento sul metodo sul linguaggio è importante io ribadisco che sono convintissimo che posso anche sbagliare su Dorotea ma la testa secondo me no ma lo dico più per intuito ma sono convintissimo di non sbagliare sullo scenario politico e sulla minaccia turca perché per i motivi che ti ho detto all'inizio secondo me è solo una congettura poter dire che c'è un riferimento religioso mitologico letterario perché sarebbe troppo sottile troppo occultato e quindi non riconoscibile neanche all'epoca perché il campo di confronto è infinito cioè se tu vuoi vedere le figure gli uomini che possono essere quello di Giorgione o la donna che allatta può essere chiunque veramente qualunque episodio della Bibbia cioè centinaia di episodi della Bibbia migliaia della letteratura può essere è stato detto anche che Renea e Lavinia perché no però questa è una congettura se non me la inserisci su un ragionamento di ricostruzione del contesto è vero questo è importante l'unico dato importante che ci porta alla storia dell'arte dal punto di vista tecnico è questo cioè che al posto della figura dell'uomo all'inizio c'è stato un cambio di programma nell'esecuzione dell'opera c'era una donna che si lavava che era nell'acqua la mia ipotesi è proprio questa essendo non facile dare questo messaggio molto delicato riferito la mia idea è appunto che è una lettera diplomatica in immagini quindi perché hanno fatto questo quadro che sia stato committente lo stesso Caracciolo che sia stato il Doge di Venezia o l'ambasciatore di Venezia o un Patrizio Nobile che quasi tutti i Patrizzi del Consiglio avevano possedimenti in Oriente e li stavano perdendo perché arrivavano i Turchi e quindi è anche un crollo economico personale è comunque molto comprensibile che l'episodio di Dorotea aggrava la crisi di Venezia e ci possono essere stati molti personaggi alcuni ve li ho detti all'inizio queste famiglie Bon lo stesso Vendramin Grimani Emo poi vi dico perché ho tirato fuori queste famiglie venete e non altre che possono aver avuto interesse di denunciare il problema di Venezia e di denunciare lo scandalo del rapimento di Dorotea e chi era il destinatario il destinatario era evidentemente l'unico che poteva convincere Cesare Borgia a rilasciarla cioè il Papa quindi o comunque un cardinale o un ambasciatore o un consigliere di Alessandro VI Borgia la mia ipotesi per inserire in questo quadro il cambio di programma nell'esecuzione di dipinto è proprio questa non era facile secondo me neanche per Giorgione alludere in modo con delicatezza ma anche con precisione questo tema politico personale per cui l'idea di una donna che si lava e dopo all'atta implica un perdono verso Dorotea una riabilitazione una pulizia una rigenerazione sapete che allora una donna che predeva l'onore andava in convento infatti è un caso eccezionale la stessa Caterina Sforza Caterina Sforza la leonessa di Imola di Forlì che si interessava anche di alchimia condottiera fortissima una volta che è stata poi abusata da Cesare Borgia magari c'è stata anche una storia di passione reciproca ma non conta poi va in convento Caterina Sforza una figura così potente politicamente così forte come carattere quando fu assediata i presori dei suoi figli dicendo arrenditi e li uccidiamo lei si mise nuda e disse io ne faccio altri sono ancora sana posso fare altri figli questa è la Caterina Sforza va in convento quindi capite che io ho dato questa opera fra il 1501 e il 1503 perché è lì che c'è la sofferenza di Venezia e della stessa Dorotea e il perdurare di una crisi perché c'è la seconda guerra turco-Venezia nel frattempo a cui si aggiunge questo sfregio di Cesare Borgia e non solo c'è poi anche una versione parallela della storia i maligni ma il dubbio c'era e doveva avercelo sia Caracciolo che i veneziani dicevano che qualcuno disse che all'inizio Dorotea era consenziente tant'è che lei poi alla fine chiese delle garanzie scritte della sua incolumità quindi se vogliamo proprio voler precisare la datazione e spiegare il discorso che poi prima era dipinta nell'acqua la donna poi ha messo l'uomo che sembra un po' secondo me perplesso se riprenderlo o no secondo me lo spostiamo più verso il dicembre 1503 cioè c'è passato un anno fa quando Venezia ha avuto notizie che era viva e che poi era libera a quando poi è stata riaccolta e perché è stata riaccolta perché intanto era morto perché nel frattempo era morto Alessandro VI per cui l'astro politico di Cesare Borgia è franato è quasi crollato completamente è morto andando sul potere un altro papa per cui lui va per poco tempo a Napoli poi mal lo sopportano e finisce poi male in prigione nei suoi anni per cui nonostante questo quando la rilasciano c'è ancora Cesare Borgia in Italia e gli dà anche un risarcimento danni in terreni in denaro quindi il passaggio lieto fine di De Rotea corrisponde anche a una normalizzazione dei rapporti fra Roma e Venezia perché io vi ho detto che altro che Cristoforo Marcello qua l'uomo della tempesta ma più che l'uomo il committente dell'opera potrebbe essere lo stesso Caracciolo Antonio Bon Ghisi Foscolo Remo Zorzi Grimani un altro malatesta o il Doge perché ho fatto questi nomi perché se devo leggere politicamente realisticamente l'opera allora adesso torno sull'identità dei personaggi e qual è la pista l'unica pista che non hanno battuto e che è credibile sull'uomo è molto semplice se devo leggere politicamente qual è il linguaggio della politica i blasoni i blasoni quindi devo guardare questa figura che è già una figura stilizzata sembra un tarocco sembra una figurina con i colori i colori araldici questa alternanza di rosso e d'argento o comunque di bianco e rosso che diventa poi un reticolo intrecciato alternato qua e beh se un quadro politico allora deve alludere a un qualcosa non è facile perché gli esperti di araldica sono pochissimi e il bianco e il rosso sono abbastanza diffusi però a un rapido analisi che ho fatto non è un elemento decisivo ma potrebbe essere un elemento di conferma non solo i malatesta hanno i quadretti bianchi e rossi ma queste famiglie veneziane che vi ho detto hanno nel loro blasoni il bianco e il rosso se non ci sono domande farei l'ultima parte breve circa un quarto d'ora sull'altro grande tema che è stato già trattato ma secondo me anche qua trattato male cioè i rapporti fra la tempesta e l'alchimia perché non è che me la invento io da anni si dice ah nella tempesta c'è un'allusione all'alchimia non è solo un'allusione a qualcos'altro io dico ai problemi politici di Venezia di Dorotea ma anche l'allusione all'alchimia se c'è qualche altra domanda se no vado avanti e finisco l'altro libro che ho letto su Giorgione oltre alla tempesta svelata di Marco Poli è un libretto degli anni 70 Giorgione e tre capolavori alchemici di Ortensi Cesare Landi che è un libro che Umberto Eco direbbe di deriva ermeneutica cioè questo è un esperto conosce abbastanza bene l'alchimia ma la vede dappertutto per cui io sono convinto che ci sia qualche elemento che potrebbe alludere l'alchimia ma vi dico dove con precisione se leggete qualsiasi altro libro non vi dice con precisione dove e fa anche qua una bella pulp fiction cioè cosa vi dicono di solito beh l'uomo ha la faccia scura l'uomo è di qua la donna di là quindi l'uomo è il mercurio cioè non è mercurio mitologico ma proprio la sostanza alchemica del mercurio che non è il mercurio del termometro è un allegoria per dire un qualcosa che ancora oggi non sappiamo bene cosa sia ma è un tema fondamentale il mercurio nell'opera alchemica e la donna cos'è scusate l'uomo è lo zolfo e la donna è il mercurio oppure l'uomo è il mercurio e la donna è un'altra fase di sviluppo del mercurio perché nell'alchimia c'è il tema dello sbiancamento quindi l'uomo ha il viso nero quindi la cottura del mercurio e il colore rosso è il cinabro il mercurio cotto che diventa rosso la donna è lo sbiancamento a quella fase di latona di purificazione del mercurio va tutto bene uno non può dire sì o no è sbagliata la nostra tesi ma torniamo al punto di prima allora può essere qualsiasi cosa noi dobbiamo cercare invece degli elementi precisi degli indizi precisi come Giorgioni in questa opera è precisissimo perché abbiamo visto quanti rapporti di dialogo ci sono il fulmine la rovina adesso vi faccio altri elementi vedete queste radici sono tutte forcelle doppie e qua c'è un albero doppio e qua c'è una decorazione doppia cioè ci sono 3000 riferimenti e rimandi anche nell'architettura quindi uno il dubbio il dubbio gli viene cioè io non ho mai avuto dubbi che ci fosse un'allusione all'alchimia ho dei dubbi nel dimostrarlo o nel precisarlo però qualcosa anche qua mi sembra di avere trovato o di avere precisato innanzitutto non sto a dirvi cos'è l'alchimia perché non lo sappiamo veramente neanche oggi però ha una tradizione letteraria l'alchimia dall'anno 1000 alla fine del 700 abbiamo più di 500 libri di alchimia attribuiti anche a San Tommaso San Buonaventura quindi non c'entra molto con la magia a meno che parlate di magia come corrispondenza fra Marco Cosmo e Nico Cosmo non come la magia intesa oggi c'entra poco con l'eresia perché non è mai stata scomunicata è stata scomunicata la falsificazione dei metalli fu proibita presso i francescani i dominicani l'alchimia proprio perché era così di moda che i frati invece di pregare o fare l'orto andavano in laboratorio stavano tutto il giorno lì l'alchimia è una scienza che è una componente anche sacra anche di preghiera di trasformazione della materia e dello stesso alchimista della stessa persona umana ci basti questo per adesso e ha influenzato tantissimo l'arte oltre che la cultura oltre anche al progresso scientifico perché l'acido cloridico i solfuri i cobalti li hanno trovati tutti gli alchimisti Parmigianino si occupò di alchimia Verrocchio il maestro di Leonardo ci diceva Sare che si occupava dell'alchimia Cosimo Rosselli il Correggio vi leggo adesso due righe di Leonardo normalmente Leonardo viene interpretato come un razionalista un antesignano degli illuministi in realtà come ho detto in una conferenza che ho fatto a Milano lui leggeva a 360 gradi era un sapiente era un dotto universale anche se in gran parte autodidatta universale leggeva anche libri religiosi e normalmente si dice che era contro l'alchimia invece no lui innanzitutto era un ipocondriaco aveva paura di essere avvelenato dai colori prodotti per via alchemica aveva paura di ammalarsi per cui non gli usava ma c'è un passo qui leggo da Leonardo Vinci scritti letterari della Bur una selezione di frammenti che si intitola contro la negromanzia e l'alchimia in realtà parla contro la negromanzia Leonardo in cui questo è persona razionale cioè contro le vocazioni degli spiriti ma critica l'alchimia da persona che la conosce all'interno del linguaggio alchemico sentite cosa scrive Leonardo dice che l'uomo nella filosofia della natura non può creare sostanze semplici può creare composti anche questo è interessante che adesso la chimica compone diversamente però non è che crea l'atomo non è che crea il piombo può modificarlo quindi è un'osservazione molto interessante dice ma l'uomo con tali semplici procedure scusi l'uomo con tali semplici cioè gli elementi non riducibili produce infiniti composti ma non ha potestà di creare nessun semplice se non un altro semmedesimo cioè gli sua figlioli e di questo mi saranno testimoni gli vecchi alchimisti cioè Leonardo qua per dire che l'uomo può solo creare composti chimici o naturali e non elementi semplici cita testimoni gli antichi alchimisti non sono cosa dice secondo Leonardo gli antichi alchimisti dicono i quali mai o a caso o con volontaria esperienza s'abbattero a creare la minima cosa che si possa da essere natura infatti i testi alchemici non dicono che l'alchimista crea l'alchimista porta alla luce un qualcosa che già c'è cioè un tema linguistico che sto analizzando in questi giorni porterò avanti è un'analisi linguistica di vari testi alchemici un tema tipico dell'alchimista dice ma noi spogliamo da certe sovrastrutture la natura e facciamo uscire quello che già c'è ma che ci inventiamo nulla dobbiamo solo purificare certi elementi e questo lo dice Leonardo quindi Leonardo conosce il linguaggio degli alchimisti critica l'alchimia negli alchimisti critica peraltro i falsi alchimisti cioè quelli che mossi da materialismo da avidità la strumentalizzano per l'ossessione di trovare l'oro o di aumentare il peso dell'oro ma invece cosa dice lui dice che questi antichi alchimisti tal generazione cioè l'attività degli alchimisti merita infinita laude mediante la utilità delle cose da loro trovate e utilità degli uomini cioè gli alchimisti antichi hanno trovato molte cose a utilità degli uomini ci dice Leonardo se non che purtroppo e qua arriva l'ipocondriaco hanno trovato anche veleni e cose nocivi poi ci dice che l'oro lo chiama vero figliol del sole la parola la frase che è l'oro è figlio del sole è tipica dell'alchimia e la usa Leonardo non solo dà addirittura dei consigli su come approfondire la conoscenza è l'origine dell'oro Leonardo che non è il tema principale dell'alchimia ma è uno dei temi più che altro è un'applicazione lo scopo dell'alchimista è trovare la pietra filosofale o a livello medico l'oro potabile una medicina universale in realtà era compiere un processo di trasformazione che potevi poi applicare lo dicono proiettare nel campo vegetale o minerale o anche su se stessi quindi la trasformazione del piombo o dell'argento del rame in oro il cambiamento di stato di metalli è al massimo una conseguenza un'applicazione secondaria che è essere fatta a scopo di bene di un qualcosa che hai già trovato nel corso di un processo che magari dura tutta la vita e che ha altre finalità più nobili cosa dice Leonardo non andate a scervellarvi perché l'oro nasce sotto terra dove c'è umido dove c'è tiepido dove c'è caldo ma cosa dice che cosa c'è nelle miniere cosa c'è sotto terra dove si trova l'oro dice Leonardo quivi non argento vivo quindi non mercurio alchimistico non zolfo cioè quivi non fuoco né altro caldo che quel di natura vivificatrice la quale ti mostrerà la ramificazione dell'oro sparse per il lapis ovvero azzurro oltremarino il quale colore esente dalla potestà del fuoco sembra che di capo oco far fuori in realtà dice tantissimo cioè dice che si può trovare l'origine al genesis dell'oro ma non usando il mercurio o lo zolfo che dicono i filosofi basta andare a vedere dove nasce però dice che c'è una virtù generativa c'è una ramificazione dell'oro e parla di un lapis lapis è la tipica parola per dire la pietra filosofale cioè quell'essenza segreta che il linguaggio alchemico nasconde e su cui si cervellano da mille anni chi studia l'alchimia o vuole praticarla è lapis e parla addirittura di azzurro oltremarino lapis lazzulo è la pietra del cielo azzurro oltremarino che è un colore che resiste al fuoco quindi vedete che Leonardo conosce un linguaggio simbolico che passa dall'alchimia ai minerali e al colore per diti quanto fosse in voga allora il tema dell'alchimia nella classe colta ovviamente ma già nel 1200 Costantino Pisano uno studioso uno studente un po' studioso ci parla delle dibattiti che all'università di Bologna le questioni dibattiti pubblici si tenevano se era meglio trattare l'alchimia utilizzando il pensiero di Platone o di Aristotele non se fosse vero o no l'alchimia voi lo davano per scontato che era un'arte una scienza che faceva parte della filosofia della natura ed era assolutamente attendibile e nobile ma dicevano mai meglio praticare studiare l'alchimia prendendolo da Aristotele o da Platone e già lo collegavano agli astri alle case zodiacali quindi questo è un breve accenno per dirvi l'importanza dell'alchimia dove può essere dove possono essere gli elementi qua di allusione all'alchimia e anche qua bisogna conoscere un attimo il linguaggio alchemico che ha dei temi ha dei temi tipo i colori il passaggio dalla fase al nero alla fase al bianco alla fase al rosso ma soprattutto ha delle visualizzazioni che a livello di libri stampati compaiono da fine 500 in poi perché è difficile usare i testi alchemici per capire i quadri perché i testi alchemici compaiono dal IV secolo dopo Cristo ma ne abbiamo solo due poi soprattutto dall'anno 1000 in poi si moltiplicano sempre di più fino alla fine al 700 ma sono miniature sono pergamene sono frammenti e dalla seconda metà del 500 in poi che arrivano arricchiti di immagini di allegorie di disegni colorati o non e allora lì è più facile confrontarlo con la pittura però e poi cosa succede che dalla metà del 500 in poi vengono ristampati con figure testi del 300 del 400 del 200 anche dell'anno 1000 quindi è un po' più difficile perché l'alchimia è un linguaggio che attraversa i secoli ma rimane uguale la cosa strana è che attraversa parte dal III o IV secolo dopo Cristo nel Mediterraneo greco in parte cristiano ma ancora in parte pagano da Zosimo di Panopoli da Comario adesso vi leggerò un passo per arrivare al fine del 700 pur essendo ogni testo diverso dall'altro e pieno di colori immagini hanno una dinamica linguistica e dei temi e degli emblemi e una dialettica che rimane uguale tant'è che si citano sempre fra di loro spesso gli alchimisti quindi è difficile confrontare un testo dell'epoca della tempesta con la tempesta perché non abbiamo delle visualizzazioni diffuse attendibili però uno dei temi oltre i colori è lo stato fluido e solido della materia e la dialettica fra secco e umido adesso la vediamo solo nell'opera un altro tema è la forma geometrica anche se ripeto compare soprattutto dalla fine del 500 in poi cioè la sfera è spesso il mercurio il triangolo è lo zolfo o il fuoco filosofico cioè questa intima fermentazione questo fuoco che non vediamo ma consuma la materia all'interno e la trasforma e il quadrato è il sale per sapoco è questa la dialettica e qua vediamo che nell'architettura del paesaggio dello sfondo c'è una dialettica fra il triangolo il quadrato l'abbiamo vista negli ingrandimenti adesso magari lo rivediamo l'ingrandimento del Tempio di Gerusalemme del Duomo della Roccia perché adesso in parole molto veloci qua abbiamo io ho confrontato questo edificio molto strano con questo dove c'è col Tempio Malatestiano secondo me dove c'è il leone di San Marco sono molto diversi ma in realtà tutti e due hanno uno stemma color fuoco tutti e due hanno una porta tutti e due hanno una scala qua si vede poco ma in grandita c'è una scala qua e una scala che sale qua tutte e due hanno un portone diciamo tutte e due hanno un elemento triangolare uno qui e uno qui la cicogna o l'ibis o comunque l'uccello bianco vicino a un triangolo per metà spezzato potrebbe essere anche questa un'allusione ermetica cosa voglio dire che sembra esserci una dialettica linguistica che parte da questo edificio va in questo ma anche questi due qua col fulmine in mezzo che va a passare in mezzo alla porta sono interessanti va su questo ed altro edificio che è un triangolo con tantissime aperture quindi come una terra piena d'aria perché devo interpretare chemicamente perché è un triangolo quindi un fuoco ma pieno di finestre quindi un fuoco misto ad aria e questa torre vediamo gli ingrandimenti è una torre che ha i toni azzurri del cielo dentro la torre quindi è una terra unita al cielo quindi sembra essi una dialettica un'allusione fra cerchio triangolo quadrato e comunque fra i quattro elementi che culmina nel tempio di Gerusalemme adesso lo chiamiamo duomo della roccia ma già la parola roccia pietra e tempio è importante in alchimia che è una sintesi perfetta di triangolo cerchio e quadrato la quadratura del cerchio non solo adesso vediamo gli ingrandimenti ha dei toni cerulei dentro la materia e queste foglie dorate non a caso sono vicine al tempio non solo possiamo ipotizzare un percorso alchimico anche guardando il fiume dall'alto in basso questo forse è anche più evidente delle forme geometriche del paesaggio qua abbiamo dicevo il ponte con quattro elementi quattro piloni che potrebbero essere i quattro elementi della natura il ponte diventa guzzo vedete che strano diventa una punta che penetra qua qua abbiamo il carro con quattro ruote qua abbiamo un'acqua colore indaco cupa è vero che c'è un po' le nuvole poi però improvvisamente abbiamo qua in corrispondenza del rispecchiamento del fulmine un doppio vortice poi vediamo negli ingrandimenti se c'è un doppio vortice dove i quattro elementi si confondono ed è il tema del caos cosiddetto caos filosofico caos alchemico cioè abbiamo la sabbia del fondo del fiume che va in superficie la schiuma la luce che rispecchia il fulmine e abbiamo un doppio vortice scendendo il fiume stranamente ha una strozzatura e abbiamo questa puzza con della schiuma ed è molto interessante questo sembra veramente un tema alchemico perché abbiamo un qualcosa che a metà strada fa il soldo e il liquido sembra gomma sembra pece e la pece è un nome usato in alchimia qualcosa gli alchimisti parlano anche di testi alchemici anche di acqua metallica però non è morta sembra statica ma c'è una schiuma quindi c'è un fuoco interno c'è un'ebollizione e la schiuma sembra in simmetria simbolica col fulmine adesso vi leggerò un testo del seicento ma uno anche testo del quarto secolo dove ci sono si parla di pece si parla di fulmine si parla di schiuma e la cosa interessante che nessuno ha notato è che lo stesso concetto di tempesta che può essere considerato una specificazione del concetto di apocalisse di crisi di giudizio è un concetto che viene usato in alcuni testi ermetici come allegoria dell'alchimia l'alchimia è una tempesta nel processo alchemico la materia collassa entra in crisi c'è un moto violento il lampo c'è un secco c'è un fuoco che accende la materia che inizia a trasformarsi quindi se uno volesse proprio essere preciso non serve arrivare a questi livelli di precisione basta studiare iniziare a studiare dei parallelismi ma questo potrebbe essere l'antimonio o il vetriolo qua abbiamo un processo di purificazione e poi abbiamo la fase nera dove arriviamo alla madre dei metalli cioè alla materia prima perché l'alchimia diceva i metalli sono come i bambini cioè come le piante come noi noi non nasciamo da adesso sappiamo che c'è un spermatozoi allora non lo sapevano ma c'è una sostanza maschile che si unisce alla femminile beh il seme metti il seme sotto terra è una concezione molto antica ma era molto viva fino al 700 e i metalli sono così cioè sono creature di Dio quindi crescono nascono crescono e muoiono l'alchimia serve solo a velocizzare il processo che dal carbone magari ti porta al diamante quindi se io retroagisco al seme dei metalli perché se sono metalli e non sono piante c'è una matrice comune tra i sette metalli e questa può essere la matrice comune dei sette metalli vi leggo due testi veloci anzi tre uno di Luca Pacioli che riguarda il rapporto tra le forme geometriche il misticismo e l'alchimia abbiamo visto che il quadrato il triangolo il cerchio sono le forme più semplici il cerchio con il punto al centro vuol dire la fecondazione la purificazione del mercurio Luca Pacioli matematico viene inserito dall'emir Zolla uno dei massimi esperti dell'esoterismo nella sua collana nella sua pubblicazione è pubblicato a Delphi ma nasce negli anni 80 i mistici dell'occidente perché è un matematico inserito con la sua opera dedivina proporzione fra i mistici perché allora la sezione aurea che viene trattata da Pacioli che influenza Leonardo che è presente nel cenacolo è messa in collegamento con i quattro elementi terra, aria, acqua e fuoco a loro volta messa in collegamento con delle forme geometriche e Luca Pacioli dice quindi big della cultura di fine 400 che sta anche a Venezia dice che Dio conferisce alla quintessenza una virtù celeste che poi genera la sezione aurea ed è collegata ai quattro elementi dice che ad esempio il cielo al cielo corrisponde il duo de cedron fatto da 12 pentagoni dipinto da Leonardo nella sua opera di divina proporzione al fuoco corrisponde una figura piramidale del tetracedon sono dei solidi complessi sono famosi e l'exacedon corrisponde alla terra l'aria corrisponde all'octocedon e l'acqua all'icocedon nella melanconia di Dürer vediamo un miscuglio fra un solido poligonale complesso fatto di triangoli e di pentagoni quindi è un miscuglio è una sintesi fra l'aria e l'acqua adesso non la trovo più ma melanconia questa cosa che ci ha detto Luca Pacioli e che un po' c'è nel cenacolo come sezione aurea e che Leonardo dipinge nel libro Luca Pacioli eccolo qua Dürer genialmente mescola Dodecaedo con Licosaredo fa sia pentagono che triangolo quindi se leggiamo a cosa corrispondono il duodecedon corrisponde al cielo e la piramide il tetracedono al fuoco qua abbiamo cielo più fuoco quindi vedete come il linguaggio geometrico è uno dei modi in cui parla il linguaggio alchemico poi vabbè lo si vede nella storia queste sono immagini più tardi ma vedete il cerchio triangolo e il quadrato ce ne sono veramente tantissime questa è un'altra cosa ce ne sono tantissime questo l'abbiamo già visto ora vi leggo un passo invece di Comario che è uno dei primi alchimisti greci quindi i primi secoli del medioevo bizantino e chi ci dice che appunto la tempesta è un'allegoria dell'intera alchimia l'alchimia viene chiamata spesso filosofia o arte sono sinonimi lui all'interno di un testo alchemico Comario dice l'arte è simile a una tempesta di cui come una ruota provoca il turbinio sovrastandola come il mistero con sopra ancora l'orbita il polo e case torri e gloriosissimi insediamenti è una traduzione dal greco è anche difficile poi capire questo linguaggio però qua paragona la stessa alchimia a una tempesta abbiamo poi questo testo le lettere di Ali Puli un testo fine seicento fra Germania e Olanda da poco edito che è molto interessante perché anche qua un altro tema alchemico molto diffuso è il giudizio cioè l'opera alchemica è come l'apocalisse oppure come la genesi i primi sei giorni della creazione perché Dio crea per separazione separa la tenebre dalla luce separa l'acqua dalla terra e l'alchimista deve fare la stessa cosa separare lo spesso dal sottile separare gli elementi purificarli e poi ricongiungerli questa dialettica linguistica c'è abbastanza fra secco e umido qua perché bisogna ingradire ma non abbiamo tempo se voi guardate dove è finita la penna c'è una dialettica secco umido queste radici sono secche questo arbusto è secco e ha una radice che spezza la pietra questo è verdeggiante e se ingrandiamo sono tutte biforcazioni tutto doppio come fosse un caducero questi questi rametti qui il tema del doppio abbiamo visto che è diffuso in questa decorazione che sembra un caducero quindi che è l'emblema di Hermes c'è un albero doppio qua c'è la doppia colonna c'è poi tutta una dialettica fra ombre e chiaro molto interessante qua abbiamo delle frange del mantello che sembrano delle gocce cosa dice Alipuli anche qua paragona Alipuli è un soprannome inventato arabeggiante in realtà sarà un alchimista o tedesco o olandese paragona l'alchimia a giudizio paragona l'alchimia all'apocalisse è un tema diffuso alla genesi poi dice che c'è una dialettica nella creazione del mondo nel lavoro fa limpido torbido e mediano abbiamo visto il fiume la pozza c'è una dialettica fa secco e umido fra limpido torbido e mediano poi un pezzo di questo testo che si chiama il farmaco curioso sconosciuto di Alipuli dice la parte nobile matura dell'acqua anche qua non è l'acqua che intendiamo noi non è l'essenza che loro chiamano acqua ma non sappiamo bene tra parentesi sal natura il sale della natura è fatta spumeggiare e qui abbiamo la spuma anche nella pozza nera è fatta spumeggiare e poiché non può sopportare in modo insolito la sempre intensa elevazione della sua natura essa si estingue violentemente come un lampo quindi abbiamo un testo alchimico che ci mette in dialettica lampo e schiuma come qua abbiamo in verticale il lampo e la schiuma un altro passo interessante è che questo Alipuli questo alchimista citando armato da Villanova quindi rifacendosi dal 1200 fino al 1600 ci dice che è dall'atmosfera è da un moto che per via magnetica induciamo nell'atmosfera che ricaviamo il sale lui non dice come si fa ovviamente perché il testo deve nascondere ma c'è un'essenza una sostanza fiammeggiante con un fuoco non visibile che noi ricaviamo dall'atmosfera la inseriamo nella nostra materia che abbiamo nell'alambicco e creiamo un moto di trasformazione quindi sicuramente per via geometrica per via dei colori per via di dialettica secco umido quindi all'interno della stessa struttura dell'opera ci possono essere dei parallelismi con la dialettica del linguaggio dell'alchimia grazie Giacomo grazie a tutti voi ringraziamo ancora la CRT chi vorrà potrà chiedere ed ottenere il video della serata vi auguro buonanotte grazie a tutti i nostri